ed eccoci buonasera una nuova serata di opinioni pericolose che da un po ragazzi che non urliamo qua dentro è da un po e stasera e stasera lo facciamo con un ospite con un grande ospite che ormai è di casa e siamo felici che sia di casa francesco lo ciao francesco ciao buonasera ciao marco ciao gianni ciao adriano club ciao giovanni ragazzi io faccio una storia al volo vai adriano stasera è stato ribattezzato adriano fight club per via della luce per via della luce un po fa il club questa barra di luci allora come va quant'era che non facevamo opinioni più di un mese un mese a fine agosto inizio settembre quando l'avevamo l'ultima estate il twitch day se non sbaglio è sì e beh allora fine agosto ok come come settembre inizio settembre io voglio sapere da dalla chat come si siete stati un mese senza opinioni pericolose siete riusciti avete accesso lato della rabbia repressa qualcosa in questo periodo cosa è successo se io l'ho accumulato e accumulato infatti marco portano bene pericolosa guarda un po però ragazzi vi ricordo che comunque non mi pare che sia già uscito o che deve uscire a breve opinioni pericolose su nell'altro formato salcina le di prime video no esce questa settimana c'è questa settimana esatto quindi se non ce la fate ce n'è già uno ce ne sono già due episodi su di opinioni pericolose sul cane i prime video potete andare lì nel loro canale youtube a sentire adriano che e marco che urla contro i gianni e cose adriano con no con violetta con no questa settimana c'è quello vecchio e con gianni marco urla in faccia gianni o allora allora intanto in chat già ci parlano di opinioni pericolosa su dune che fa potrebbe bannare il bim allora gelli bin 96 scrivi ad opinioni pericolose che non so provere e ne riparliamo non scrivere in mano no no invece secondo me se ne può parlare non so francesco cosa ne pensa di gelli bin no no non ci provare due e due e due in breve dune 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 all'americana mi aspettavo di più anche io e io lo immaginavo io avevo avevo un'idea su dune su di uno su quello che ho visto poi ho visto il video e su bettaste di francesco dette pareva lo sapevo cioè ha esattamente detto quello che mi aspettavo andrò a vederlo però lo sapevo allora l'ora di atterraggio tecolo dell'astronavi e bella cioè quella ora di atterraggio tecolo sei pessimo a me e marco è piaciuto molto a noi siamo al cia ci siamo divertiti comunque volevo dire poi lascio la parola adriano ragazzi solo una cosa su quello che riguarda dune o dune quello che è su questa serie che si chiama squid game non siamo ancora perché tanto lo so che no stasera troppo presto è troppo presto per squid io la sto ancora vedendo ragazzi vedendo io ancora non l'ho vista è troppo presto e dune sicuramente qualcosa arriverà ragazzi zettersi g ha donato cinque abbonamenti a mister fuzilla ania cornone frederick a ruggio e nico jc se io mi dono aspetta facciamo facciamo con ordine perché vuoi dire un ultimo nico sì 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 no perché ruggiate oru jade dice come faccio a donare per il corto allora che cos'è la donazione per intanto perdonare per il corto si deve fare una dove si può fare una donazione normale qui su twitch quindi zona tramite twitch e tutto quello che verrà raccolto tramite le donazioni nei mesi di ottobre di novembre verrà destinato alla realizzazione di questo corto che fa parte del progetto short movie live faccio in breve un recap marco ma siamo partiti con questo progetto a fine agosto ed è un progetto dove noi realizzeremo un cortometraggio coinvolgendo in maniera pesante voi della chat voi ci avete già dato l'idea da cui siamo partiti luca berrettini giusto ci ha dato l'idea la logline che noi stiamo sviluppando insieme a voi a novembre ci saranno poi tante altre live nella quale di fare nelle quali vi racconteremo vi faremo proprio assistere alle fasi di creatività di sviluppo della scheda della sceneggiatura oppure alle fasi di lodi di preproduzione ad alcune di preproduzione tipo la scrittura dello storyboard o parlare degli attori o decidere le location e cose del genere poi ci saranno anche live durante il set vero e proprio che durerà tre giorni tra fine novembre inizio dicembre e poi qui a casa mia c'è un temporale avete sentito sì decisamente fortissimo esatto infatti sono proprio cagato sotto e poi ci saranno anche le live di post produzione per partecipare non per partecipare bisogna essere abbonati a questo canale e quindi seguirci in tutte le live dedicate ma potrete anche donare per far arrivare questo gol al 5000 ma poi anche oltre perché ovviamente in questo corto costerà ben più di 5 di 5 mila euro e tutto quello che poi mancherà verrà messo da noi perché poi è una produzione nostra un progetto nostro però più voi volete sostenerci più potete donare trovate in chat e il link con dove nella pagina i perks per donare trovate lì tutti i vari persi che adesso a memoria non ricordo magari ma è world dice qualcuno i reward hanno vai di lì ad esempio c'è quello per venire sul set con noi intanto saluto frank fra never che è uno dei produttori che ha donato mille euro c'è una domanda su questa storia edward strife che leggiamo subito dopo ce l'ho in canna ok quindi ringrazio frank fra never intanto e lo ricordo che ha donato mille euro quindi a produttori ufficiali ci siamo sentiti oggi al tele in videochiamata abbiamo fatto una chiacchierata di una mezz'oretta io lui e mauro l'abbiamo aggiornato su a che punto siamo al per la produzione e c'è la possibilità quindi venire sul set sono rimasti tre posti e di vivere con noi l'esperienza di una giornata di set c'è la possibilità di venire all'anteprima dove ho già invitato bette e francesco se vorranno a roma e sperando che poi non ci distrugga a livello di critica beh che fate compri il critico no no io voglio il critico onesto aspetta prima dipende dipende però ok no ma la disposizione mi sa che poi non è proprio sua considera che 3 mila euro dei 5 mila che stiamo raccogliendo vanno in tasca da loro comunque non vi preoccupate perché quando lo asfalta le cose lo fa con molta eleganza quindi nel caso sarà un'asfaltata però tra io sono elegante e quindi questo quindi se andate sul link in chat aprite la pagina dove ci sono tutti quanti i reward scritti con i vari livelli di donazione e siamo adesso a 3.300 e qualcosa euro 3.328 considerando che è partita da dieci giorni siamo molto molto contenti c'è la domanda di prima di edward strife che può avere senso dice domanda scomoda non tanto dice se dono mille euro e per il corto divento produttore reale cioè se il corto monetizza mi arriva una percentuale oppure per amore per l'arte per l'arte dice senza polemica sono curioso allora si deve capire meglio però diventando produttore diventi produttore associato quindi poi ma poi il corto non ha scopi di lucro non verrà monetizzato mai ma nel caso non possiamo mai mettere un freno ma quella risposta è facile la vita semplicemente no nel senso che non viene monetizzato non ci sarà verrà mai monetizzato ma comunque no nel senso che non stiamo poi facendo i contratti con chi dona per cedere parte del progetto il progetto è ma proprio non sussiste il momento in cui tanto questa corto è fatto girerà per i festival al massimo è proprio questo ragazzi io continuo a dirlo se voi volete vedere questo corto appena diciamo è finito appena è stato realizzato una volta che è chiuso vi conviene prendere il posto all'anteprima perché noi abbiamo intenzione di mandarlo per i festival e come alò ben fa ci sono tanti festival che ti richiedono che il corto resti diciamo offline fino a che appunto non ha partecipato al festival in questo caso per anteprime private sì si può fare no no per anteprime private si può fare però non lo puoi mettere online non possiamo trasmettere su twitch quindi può essere che per un anno questo tipo di roba resterà diciamo resterà privata solo per quelli che hanno partecipato al crowdfunding o per quelle poche persone che possono vederlo attraverso come diciamo sempre più tardi più tardi lo vedete online più significa che il corto funziona perché sta facendo un giro sta andando un po da perché pensa se diventa adesso però pensa se diventa uno di quei corti storici che poi genera un lungo meraviglioso c'è un elenco babadook anche se non è venuto un lungo meraviglioso secondo me a ciambra ma perché sono anche solo mi sta pure di street nine se non ricordo male we flash we flash e we flash l'aveva fatto il corto penso se diventa una cosa ma chi è regista zinga mauro zinga mauro vabbè ma penso se se sbaglio e fa un capolavoro sbaglia sbagliando però infatti cresce diventa anche una cosa economica e so cazzi a quel punto dopo bene a poi se ne parla vediamo che possiamo dare una percentuale dei capelli di mauro zingarelli vi inviamo ma poi poi succede come nelle migliori storie dove poi lungo noi non lo faremo dirigere a lui litighiamo ci insultiamo a causa scusate un attimo intanto a proposito di mauro che è apparsa la sua iconcina che saltava perché ci hanno appena fatto un raid i ragazzi di bettesti italia di cui francesco questa sera è anche un po rappresentante che hanno finito oggi la loro prima maratona giusto devo parlare prego divisa in due e proprio grazie grazie a francesco ci hanno raccontato che hai buttato giù la live ovviamente non è stata colpa di questa la colpa loro ma danno sempre la colpa a me e nel senso che io avevo detto che devo fare posso uscire sì sì esci esci sono uscito è successo un casino però sono stati meravigliosi li ho visti fino a pochi minuti fa andrea vedeschi andrea francesco verni stavano lì belli come il sole e anche devo dire molto lucidi a dire a fare dei discorsi molto belli interessanti quindi grande vedeschi che ha portato a casa tutta questa cosa gigantesca e quindi sì ragazzi io scusate ti trovo francesco se non l'avete vista vi consiglio di andarla recuperare il loro canale più tardi perché ci sono stati un sacco di ospiti interessanti c'è stato mainetti c'è stato anche fatti noi ci siamo stati noi nel pomeriggio c'è stato un ragazzo è lì e li ha calato un po dopo mainetti poi non è stata proprio una gran c'è stata un fratelli innocenzo i fratelli innocenzo c'è stato un ragazzo michele che per esempio fa un lavoro che è il producer no che molte volte si confonde in italia cos'è il producer cos'è il produttore questo ragazzo lavora a san ges ha specificato su cosa lavora cosa va è stato molto interessante fino a un uomo delle capatane c'era lui michele caspani e quindi se non l'avete vista recuperate la benazzo e che vogliamo fare ora a tedeschi e berni bravi sera i ragazzi e auguri a betteste per l'anno su twitch esatto un anno di twitch un anno che stiamo attricciando la musica di sottofondo c'è ragazzi è volato senti ma vogliamo entrare vogliamo vediamo nel vivo nel vivo ok allora la prima opinione pericolosa di questa sera che verrà viene portata come sempre da un utente di voi che ci ha scritto a slim dogs format giusto gianni no pizioni per i loro fatti mi era venuto il dubbio per quello mi sono fermato opinioni pericolose che c'è la gmail.com dovrebbe essere giovanni che porta la prima opinione cioè si chiama giovanni giuio non c'entro e si chiama giovanni giovanni si chiama non è colpa mia però ragazzi intanto questa sera nella prima opinione chi è concludo avremo il buon francesco alò ovviamente come giudice ma nella prima opinione anche il buon marco cioni come giudice quindi io mi rimetterò specie io seguirò il mio maestro e non cercherò di fare cioè non cercherò di fare così colpi di coda guardo quello che fa lui è invito provaci quanto meno prova ci prova prima di fare entrare giovanni che sta lì pronto in canna volevo ringraziare rougeide che appena donato 50 euro quindi si acchiappa la maglietta che stiamo prima o poi uscirà fuori del cortometraggio e john anche con i reward aggiornati marco stasera però poi ne parliamo felicissimi potervi supportare nel mio piccolo continuate a fare cose belle e poi gianni johnny barzon proprio scritto johnny g i onni barzone che dona 5 euro io farei entrare giovanni a questo punto che dite facciamo entrare giovanni facciamo entrare giovanni eccolo qua presente ciao giovanni ciao ciao a tutti ho voce squillante perfetta come se nemmeno male come stai buona partenza ancora non detto niente mi piace questo video dei queen cioè adriano io non ho lo sfondo figo come il vostro però è giustamente volevo una libreria dietro un po invece esce dall'oscurità non c'è ci manca indietro vediamo se indietro perché la messa è automatico perché automatica la webcam e quindi però però funziona giovanni giovanni legge il messaggio di johnny barzone aspettando che accettiate la mia opinione pericolosa sul residentivo il dono per lo short gianni c'è un altro è riuscito il trainer del nuovo resi esatto sembra un fan movie noi con vittima degli eventi abbiamo fatto meglio ma andiamo a guarda lo sembra il cinema del mondiale sembra un fatto poi adesso giovanni ci penserà dare il colpo di grazia giovanni ma prima prima di me ne avete fatto un'altra no no se il primo è il primo e io so già quello che devi dire giovanni prima dici da dove di che fai e da dove sei allora io mi insegno e faccio concept art quindi 3d robe 3d scultura digitale commissione però mi piacerebbe lavorare in cinema quindi un artista un artista vero un artista sì 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 c'è qualcosa online se mi va di vederlo dove dove manda link a giacomo così principalmente noi artisti siamo tutti su art station art manda il link a giacomo che tanto c'è il contatto così poi lo mandiamo in chat anche ok ok allora è il momento di sentire l'opinione pericolosa dopodiché faremo il pronostico però prima del pronostico faremo anche le squadre quindi intanto giovanni qual è l'opinione a che non l'avete presentata no 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 devi avere un coraggio devi avere una premessa no eh vabbè no devo stringere era per super prendere in giro il fatto che già sta a mettere mani avanti ho detto semplicemente che il cinema di leone è sopravvalutato ecco fatto ha detto semplicemente la delicatezza con cui tu l'hai appoggiata sì così l'ha buttata all'indicato ma io e io seguo gli ordini quello che volete faccio francesco ha avuto un piccolo mancamento ragazzi occhi francesco io l'ho percepito nei tuoi occhi così al volo come funziona opinioni pericolose adesso giovanni ci ha appena detto la sua opinione che è che il cinema di sergio leone è sopravvalutato per dei motivi che adesso ci esporrà quindi non cominciate subito ad attaccarlo se vince questa cosa mi disiscrivo perché non so se si può fare questa cosa comunque giovanni ha espresso la sua opinione ora faremo le squadre poi partirà un pronostico in cui potrete giocarvi i vostri punti canale per scegliere chi vincerà e fatto quello si partirà a turno partirà giovanni e poi uno dell'attacco e poi uno della difesa e uno dell'attacco si andrà in giro fino ad avere delle arlinghe fra francesco noi alla fine del primo giro potremo io penso soprattutto tu potrai se vuoi indirizzare la discussione più da una parte che dall'altra chiedendo qualcosa sì esatto chiedere delle cose capire dove andare quindi giovanni parti allora siccome io propongo l'ultimo l'ultima cosa che stasera faccio da giudice e che propongo per la forza di cui ha bisogno giovanni stasera di affiancargli il potere della filosofia va benissimo e quindi io vorrei che secondo me gianni è il giusto può essere giusto sostenitore aiuto adriano io vorrei così farti notare prima e cominciamo che stasera in questa live ci stanno tre giovanni a perché c'è pure gianni madonna ragazzi vabbè dai mauro zingarelli mauro zingarelli a quest'opinione sedato è questa sera scappato dardo quindi via il pronostico ragazzi giocatevi i vostri punti canale io vado a votare la pisca e quindi scegliete se la squadra vincitrice sarà la difesa di giovanni e gianni oppure che sostiene che il cinema di saggiore si ha sopravvalutato oppure l'attacco di giovanni e giovanni adriano di santonocidino e adriano e devono semplicemente avere compito credo facile oggi cioè partendo da questo opinione è un po più facile magari di andare a smontare il fatto che il cinema di saggio leone non sia guardato frank fra never si gioca tutto stasera io sono ragazzi ho 13 mila punti canale proprio per il bene della puntata io me ne sto giocando 5 mila per la difesa contro di me ma di no sì così tipo quelli che giocano e giocano i portieri che si fanno fare gol questa cosa però potrei anche stigmatizzarla no perché è giusto allora no è già partita fagliacciata annullato 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 la ringrazio santucci perché prego grazie io chiedo chiedo alla chat e chiedo ai giudici di non arrivare con un pregiudizio già formato ma di ascoltare le nostre a ring ma si convincere da noi ragazzi metteremo tutto l'amore mettete che non ci siamo mai accorti che abbiamo visto tutti i film di sergio leone al contrario non ci siamo mai accorti metti poi buoni allora fermi tutti il pronostico è praticamente finito quindi io do il via ufficialmente a questo primo giro di opinioni pericolosi e poi faccia apparire l'opinione eccola i film di sergio leone sono sopravvalutati e apparuta vai anna vai allora da non confondersi con sergio leone non è un grande regista sergio leone non ha fatto la storia eccetera eccetera quello che dico io semplicemente che vedendo i film di leone che non sono tanti quindi facciamo anche un calcolo matematico mettiamo che 5 gliene sono venuti male oppure meno peggio di un altro e quindi già si possono sottovalutare e va bene questo però non mi salvo così cioè la esplicito bene la esplicito bene i film di leone hanno mancanza di la maggior parte mancanza di storia a parte l'ultimo forse una a livello di personaggi sono molto raccontati superficialmente lui diciamo c'è c'è una narrazione per cui il personaggio viene caratterizzato a livello estetico però poi magari all'interno della trama non si evolve benissimo molto spesso rimane piatto basta pensare a diciamo al primo e quelli successivi si può riassumere tutto come se fosse un unico film western dove il protagonista sono semplicemente le immagini e uno potrebbe dire beh detto poco il film il cinema vive di immagini quindi se le immagini sono potenti allora automaticamente anche il film lo è però non è non è per forza detto e vive assolutamente del degli elementi che caratterizzano il film quindi la musica sicuramente la scenografia molto spesso le scelte stilistiche che hanno portato ad avere il timbro leoniano non non è detto che siano state fatte da lui però questo qua non lo possiamo sapere diciamo poi mi pare che c'è un secondo round quindi c'ho delle carte ok io escluderei da questa mia analisi potrei escludere l'ultimo che invece per esempio è un film che riesce a trascinarti anche emotivamente quindi c'era una volta in america titolo per le persone in chat insomma c'era una volta in america perché stavo chiedendo al panarello di esporre idoli ok non era una volta in america per esempio a differenza degli altri è un film che si distacca completamente tanto è vero che lui lo fa 12 13 anni dopo l'ultimo che giù la testa che non voleva neanche fare potremmo dire poi è in mezzo cosa tanti anni di imbarazzo precedenti no era una fidazione ma è abituato a fare il giudice molto spesso quando si parla in modo epico di un film epico poi automaticamente diventa tutto epico diciamo che l'epicità vera nei film di leone sta nel fatto che lui li ha fatti in maniera epica e cioè magari faceva spendere al produttore lira di dio per delle cose che poi venivano tagliate perché non riusciva a tenere a tenere la sceneggiatura dritta poi magari faceva scrivere la sceneggiatura a un giovane dario argento è un giovane bertolucci poi però chiamava il suo sceneggiatore che lo faceva venire sul posto e gli faceva rimontare tutta la sceneggiatura da capo perché diceva che i due intellettuali non funzionavano quindi diciamo anche la diciamo l'arroganza forse la muscolarità del della presenza di leone sta anche dove lui non dovrebbe stare no per esempio lui è un forse il grande burattinaio del del set quindi riusciva a gestire tutto però magari sbordava andava fuori dove non doveva andare c'è una cosa tutta italiana per esempio che il fatto che il regista si siede col montatore di sera e si rimette a montare il film in teoria si sa che l'editor è quello lì finale che dovrebbe seguire la sceneggiatura fatta e montare invece lui montava la scena riprendeva tutto se voi notate nel in per qualche dolore in più film che amo io tutti i film di leone li amo perché comunque mi è per quello che faccio soprattutto mi danno un background enorme a livello di immagini di inquadrature quindi per carità cioè ci mancherebbe però c'è una scena che a me mi è rimasta impressa quando viene presentato il il monco il personaggio di clint eastwood se voi notate lui quando deve saltare andare a cavallo non so perché questa cosa magari magari è una cosa che noto io e potrete benissimo contraddire però lui quando va a cavallo si vede che la scena dura tipo troppo no il cavallo a un certo punto sbanda da una parte poi torna lì si poteva tagliare quel pezzo lì a me invece viene in mente che che lui vicino al montatore dica senti questa ci abbiamo messo da quella su questa la lasci perché ho deciso io così ok chiudi così poi mi vengono in mente altre cose ma poi abbiamo il giro successivo allora posso bere oppure tra un po in vero in teoria un calice di vino quello che hai detto di vuoi attaccare alla bottiglia fida di puoi bere ovviamente figurati io sto sempre è importante quindi chi vuole andare dell'attacco ragazzi adriano giovanni giovanni va benissimo ma allora intanto sul fatto che magari leone non era proprio questa persona meravigliosa un po sti cazzi cioè nel senso non parlando dei suoi film parlando del lavoro di una persona non è necessario che poi la persona rispecchi già quella cosa cubri che in molti casi non era proprio l'amicone quindi non è che il regista deve essere per forza una persona meravigliosa per fare dei film meravigliosi i film di leone sono meravigliosi non solo per noi ma per tutto il mondo c'è diversa gente che del calibro di quentin tarantino come del calibro di scrittori come steven king o di tanti altri che alla visione del buono il brutto e il cattivo sono completamente impazziti e hanno deciso di dedicare qualcosa o si sono ispirati a quel alla visione di quel film tarantino adora gli spaghetti western fra l'altro spaghetti western termine coniato proprio per il film il modo di fare del western di sergio leone perché quando sergio leone ha cominciato a fare il western e non è il suo primo il suo primo film è il colosso di rodi che ecco che ha fatto in una maniera un po particolare perché in realtà non doveva farlo lui lo doveva fare un altro regista stato regista ha detto che si è ammalato ma in realtà si è andato a fare un altro film e lui da aiuto regia si è ritrovato a girare il colosso di rodi e ha fatto un film molto importante nonostante il budget che aveva a disposizione poi ha cominciato con i western no con quella che è famosissima la sua trilogia del dollaro o tre film è una trilogia non è che sono tutti un film è una trilogia che ha più o meno le stesse ambientazioni più o meno le stesse tematiche proprio perché fa parte fanno tutti e tre parte di un progetto unico è quello che appunto è il buono il brutto e cattivo è un film che ha ispirato tantissime persone e quando lui ha cominciato a farli questi film western i film western in america non se li filava più nessuno la tecnica di leone il modo di fare western di leone ha ritirato su totalmente il commercio comunque la voglia di lavorare con gli col western infatti gli americani hanno coniato questo termine che spaghetti western gli spaghetti su italiani il western all'italiana che vogliono fare tutti proprio per gli spaghetti cioè molta gente adora questo suo stile questo suo passare da questi campi larghissimi a dettagli strettissimi questo suo cambiare completamente il modo di vedere i protagonisti di solito i cattivi e buoni hanno comunque stereotipati a essere tutti dei gran fichi nei film western no comunque erano tutti puliti sistemati ordinati perché erano i protagonisti erano i fichi nei film di leone sono sporchi sono reali ora non ci sono queste grandi storie le sue sono delle favole questo l'abbiamo sempre se sempre saputo il cinema di leone non è bello solo per la storia che comunque non è brutta la storia cioè non è che non ci sono dialoghi interessanti non ci sono battute interessanti non c'è niente come ha detto giovanni prima il cinema di leone principalmente fatto di immagini c'è un film del quale adesso non mi viene il titolo ma francesco sicuramente se lo ricorda dove per i primi 20 minuti non ci sono battute è solo e neanche musica sono solo immagini e suoni e leone ha voluto costruire così quell'inizio di quel film perché per lui era solo immagini e suoni ed è bellissimo io adesso non mi ricordo il titolo francesco mi ricordo una volta il west c'è una volta il west esatto comincia proprio così immagini e suoni tutto il tempo e quei suoni in qualche modo danno il ritmo danno la musica quello che fa leone anche con il montaggio essendo purtroppo in italia ragazzi soprattutto per gli italiani ci abbiamo un problema i nostri registi per il 90 per cento sono degli autori e che ci vogliamo fa essendo un autore leone uno dei più grandi autori che abbiamo avuto e che ci ha lasciato dei grandi capolavori sui film sono degli enormi capolavori tendeva a lavorare lui di testa su certe cose portava le persone all'interno del suo progetto ma a volte non è facile non è sì e chiudo non è sempre facile portare le persone tranquillamente all'interno del tuo progetto a volte devi esagerare chiudo con l'ultima cosa gli anni che passano fra giù la testa e c'era una volta in america non è che lui non sapeva che fa o come rimpiangeva quello che aveva fatto prima lui ha lavorato più di dieci anni a c'era una volta in america è stato un film molto faticoso da tirare fuori per questo c'è stato tutto quel tempo vai gianni allora io parto dice voglio potente vuole potente non citerò filosofi questa volta ma almeno messo vediamo cito me stesso giovanni non è che perché sia un autore allora è permesso il fatto che puoi avere delle scelte di merda e quindi giustificarle in questo caso ok è un autore ma tu hai fatto brutte scelte e non vuoi decidere che non vuoi fare queste e non è una giustificazione ragazzi non interrompete gianni e mi fate rosica da quello che sto dicendo io non è una giustificazione non è che se perché una persona vuole sentirsi autore quindi fa delle pessime scelte a livello di montaggio allora lo giustifichiamo perché autore partiamo dicendo questa cosa la filmografia di leone come diceva giovanni sono sette film per me di questi sette film se ne salvano che sono veramente per me capolavori due che sono il terz'ultimo e l'ultimo ovvero c'è un indovinello già adriano zitto così tu e non parlare c'era una volta c'era una volta il west c'era una volta in america secondo me sono due film molto interessanti e molto emblematici e vi spiego perché perché entrambi cercano di raccontare un sentimento che è quello della decadenza c'è una volta il west vuole analizzare un po per certi versi la decadenza del west la fine del periodo del west della conquista e della rincorsa verso il west c'era una volta in america la la fine anche un po di un genere per certi versi che è quello del gangster movie gli altri film di leone però sono un po sopravvalutati e mi spiego provate a guardarli adesso fate questo sforzo fate uno sforzo da spettatori ideali che cercano di guardare questo quei film risultano estremamente pesanti hai ragione non ci sono supereroi zitto regalo vi giuro vi faccio tagliato a ragione va bene mi scusi mi scusate silenzio gianni sta dicendo cose interessanti tra l'altro risultano estremamente pesanti per un giovane spettatore ideale attuale se lo andiamo a vedere i film di sergio leone all'epoca funzionavano perché prendevano un genere che era stato per certi versi portatore del grande possiamo dire in dei grandi incassi hollywoodiani lo riandavano a rimodulare e quindi andavano a creare quella nuova aspettativa verso nuovi spettatori il problema è che quella aspettativa si esaurisce lì come posso dire l'epoca del western è finita e quindi noi automaticamente non siamo più interessati a guardare roba del western e quindi quello che cercano di mettere in evidenza i film di leone la loro poetica è sì in parte la decadenza del western ma come posso dire sono film che possiamo relegare a un'epoca e quindi visti in quell'epoca possono risultare molto interessanti ma visti oggi purtroppo risultano un po' noiosi soprattutto fateci caso anche questa cosa questa cosa l'ho fatto caso molto leone deve tantissimo a una persona secondo me ennio morricone provate a guardare un film di leone senza quelle musiche di ennio morricone e la cosa paradossale che dovrebbe avvenire il contrario di solito per un film è il film e quindi la scena in sé che va ad esaltare la musica e non la musica che va ad esaltare la scena è un connubio strano se guardate in questo è un esempio perfetto anzimer se guardate tutta o comunque la maggior la maggior parte della della colonna sonora di anzimer immediatamente noi la ricolleghiamo all'immagine del film quindi abbiamo in testa il gladiatore che combatte nel colosseo abbiamo in testa i pirati dei caraibi che barcano per in a per i mari e combattono contro i mostri abbiamo batman che sorveglia gotham dall'alto se invece sentite la musica di ennio morricone voi non la riuscite a ricondurre un'immagine di leone perché è paradossalmente la musica ha sovrastato il film è più bella del film in sé e chiudo dicendo questa cosa secondo me un regista non può essere definito un grande maestro del cinema se di tutta la sua filmografia la sua filmografia innanzitutto è molto esigua e quindi per me una cosa del genere è abbastanza difficile da riuscire a dire ok quello è un maestro ma soprattutto se consideriamo che i film più belli e veramente capolavori sono solamente due ho finito una tocca al buon adriano ma allora io intanto voglio rispondere a questa cosa di gianni sulla musica ma forse questa cosa che tu dici gianni può essere in parte vera ma forse solamente per i primi due film perché i primi tre film perché poi se andiamo a vedere c'era una volta l'us c'era una volta in america non già non c'è più questa cosa stai dicendo te perché tutti è entrata nell'immaginario collettivo la famosa ok perfetto è quello che ti pare a te però poi a parte il fatto che morricone l'ha scelto leone quindi se non è che possiamo iniziare a dire a questo è grazie a quello grazie quelle grazie a quell'altro però poi c'è comunque un regista che mette insieme una squadra sceglie le persone decide che quello deve lavorare con quelle persone vuole lavorare quindi allora è che c'è ma no che vuol dire il produttore non è solo il produttore cioè c'è il regista pure che dici io vorrei lavorare con quello vorrei lavorare con quella mauro che sta gestendo la colonna sonora del corto che stiamo facendo non è adriano quindi nel senso questa cosa se noi si danno solo i demeriti al regista quando una cosa fa schifo i meriti agli altri quando una cosa sono una cosa è bella non mi sembra corretto ma a parte questo volevo anche rispondere a panarello che giovanni che ci diceva ci parlava del panariello del del budget per un pugno di dollari non aveva tanto budget che era il suo primo film ed è il film che è migliore che è il film che poi è esploso ed è avuto per cortesia e che ha avuto un consenso e gigantesco tra sto ridendo perché intanto nel gruppo mi chiedono di ricantare la colonna sonora di quello che c'è qualche dollaro in più simile è il 3 e quindi non è vero che lui ha lavorato solo con grandi budget che faceva quello che gli pareva ha dimostrato di saper fare con la sua opera prima con poco budget i cinema i suoi riempiti e l'opera prima sì vabbè ok però non è la prima accreditata il grosso di rodio e manca accreditato fermi fermi cortesia e signora no esatto tanto che e poi ragazzi c'è in tutto il mondo gli americani stessi hanno detto o ma sta roba è una roba coi controcazzi iniziamo a farla pure noi lui c'è avuto questa cosa pazzesca di unire l'epicità del cinema western americano con l'autorialità di quello che era il neoralismo dell'epoca e ha creato come poi succede sempre nelle opere d'arte migliori il buon panariello me lo potrà confermare che alla fine che alla fine l'innovazione nell'arte sta apprendendo tutto quello che è successo prima rielaborandola e poi in maniera un più o meno inconsapevole tirare fuori qualcosa di nuovo quello è la genialità nell'arte questo è quello che lui ha fatto ha creato una roba che ha segnato per i decenni successivi registi il pubblico e poi in qualche modo anche è anche stato uno dei primi diciamo autori di una roba con con sequel perché è vero la trilogia del dollaro non ha proprio una storia che continua però è interpretabile come una trilogia no una delle prime vere trilogie anche da questo punto di vista mi sembra un'innovazione non da poco ecco un po stile trilogia del cornetto per intenderci come l'hanno di storia signora lo è finito il primo giro adesso va da lei e chieda attacco e difesa dove vogliono andare dove devono andare se c'è necessità di di toccare ai punti che non sono stati toccati insomma se ha dei dubbi li tiri fuori io devo dire che sono stati sono molto soddisfatto penso che si siano toccati molti punti più o meno bene a seconda delle nostre opinioni pericolose o non e delle nostre sentenze che arriveranno inequivocabili non ho domande perché penso che si sia anche il signor panarello è stato diciamo esaustivo quindi non ho non ho particolari domande no 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 io volevo soltanto riuscire perché l'opinione che noi stiamo discutendo è che i film di sergione sono sopravvalutati ma io ho avuto un po' la sensazione che si è parlato molto di sergione come regista e secondo me quando uno dice che i film sono sopravvalutati bisogna considerare tutto quello che c'è nei film non necessariamente solo l'opera del regista perché altrimenti l'opinione sarebbe stata sergio leone come regista è sopravvalutato credo ma quindi penso che il panarello intendesse quello glielo chiediamo sì no 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 leone leone è stato appunto come ha detto giustamente adriano è stato uno che ha portato ha inventato un genere e soprattutto ha inventato anche un mercato del genere in qualche modo quindi tanta roba valutato e questo è stato valutato dalla storia ma i film di sergio leone sono sergio leone perché effettivamente la cosa che però la cosa che a me ha colpito e poi far lascio la parola giovanni è che effettivamente gianni mi ha detto sono d'accordo generale aspetta su sette film tranquillo su sette film due sono quelli poi effettivamente vari di secondo me e quindi vorrei che l'attacco mi parlasse non dei classici che conosciamo tutti ma magari anche gli altri film per convincermi che dei sette ce ne sono altri più importanti e che sono fichi tutti e invece gli al giovanni andasse a parlare quello si stava parlando di sopravvalutazione ma dei film in generale ma sì ok di film ma è difficile scendere perché per me se su sette due sono gli unici veramente vari gli altri mediocri anni marco giovanni io mi rimetto a quello non ha detto gianni gianni che non l'ha detto il panarello vediamo panarello secondo giro allora si sono toccati i vari punti ma ci sono scritti anche in chat hanno detto qualcosa non è detto che si può si può dire sopravvalutato visto che è un po sbrodato uno ha scritto non poi un'altra detto beh si parla anche della fine della rivoluzione e qua ci sta un punto nel senso alla base l'idea cioè il fatto che lui poneva il film in un contesto storico questo contesto storico in teoria è puramente anche quello inventato cioè è una scusa per a volte per vendere agli americani no che come è successo per il buono il brutto e il cattivo vendere la la guerra di secessione in teoria questa guerra di secessione non si vede cioè non si vede proprio lo sceneggiatore vincenzoni davanti alla united artists dice stiamo facendo un film che ci stanno questi tre nella guerra di secessione in teoria non c'è ci sta un ponte che esplode ogni tanto spunta qualche qualche giubba blu però non è quello non è quello lo sfondo tant'è vero che poi quella parte della secessione rallenta pure il film e quindi magari c'è un'unica pecca poi non è secondo me il discorso della musica la musica allora nei primi tre ha ragione assolutamente gianni che io devo appoggiare perché sto in squadra però la musica assolutamente nei primi negli altri però la musica veniva fatta prima addirittura perché poi veniva girata questa è un'altra intuizione geniale di leone durante durante il film assolutamente e però torniamo al discorso di prima allora il vero protagonista del film è la musica e forse un po meno un po meno il film stesso c'era una volta il west che è identificato come forse il capolavoro a volte gli viene fatto di via ecco nei film di leone gli viene dato un ruolo eccessivo appunto sopravvalutato rispetto a quelli che sono cioè io amo delle delle sequenze le sequenze che avete citato sono tutte belle il film c'era una volta il west se io dovessi consigliare a uno che non conosce leone ecco non glielo consiglierei proprio gli farei vedere delle scene guarda guarda che bella quando arriva claudio cardinale poi ci sta un altro discorso claudio cardinale tutte le interviste dice che gli ha regolato un personaggio bellissimo finalmente per la prima volta nel west la donna non è più oggetto non è vero cioè se voi vedete il film la donna è un super oggetto lì non è non è quella che muove il film tant'è vero che poi lui li ha caricato enormemente ci sono troppi personaggi tutti i personaggi hanno un ruolo specifico sono come delle mine impazzite che stanno dentro il west a volte ti confondi che è il protagonista non si segue bene un filo logico e poi il discorso del che erano visti come giovanni considera che è anche la ringa finale io te lo dico perché stai stai mietendo delle vittime per quanto vi riguarda se vuoi mantenere questo flow anche dopo tenerti delle cartucce no c'è no c'è no allora vai vai per esempio nel che stavo dicendo vabbè giovanni ma avete bloccato non manca la concentrazione si non ha ragione 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 vado vado a bomba tarantino parla di leone nei primi film dicendo quando lui non sapeva recita non sapeva non è che non sapeva dirigere diciamo che non aveva fatto una scuola quindi per fargli capire che voleva una strada close up gli diceva che mi ha leone e questa qua vedete poi qua il racconto supera il l'opera in sé no anche voi avete detto i film se vuoi faccare non è impossibile imprescindibile ragazzi non interrompete giovanni per favore guarda e allora sì certo se tu lo vedi come ti prendi tutto il pacchetto è ok però quando uno fa un'opera poi l'opera deve vivere da sola diciamo anche fuori dal regista poi chiaramente se tu fai una retrospettiva oppure parli in maniera generale chiaramente le devi vi deve unire però a volte anche faccio un esempio per esempio quando mauro zingarelli che non c'è non è presente però magari quando parla di film ad esempio tenet che a molti non è piaciuto io vi seguo quindi qualcosa mi ricordo però il film diventa interessante perché ovviamente se ne parla di come è stato fatto chiaramente no quindi si fa recitare un ruolo che al momento non magari non è presente però laurea che si crea intorno e diventa quasi più importante del film se voi andate a vedere c'era una volta il west etichettato come il miglior western di leone sinceramente è troppo pomposo no troppo lungo alcune scene sono tenute perché e qui torniamo al discorso del forse dell'arroganza del regista che travalica cioè nel senso non pensare più al prodotto ma pensare a quel quest'immagine la devo fare così a tutti i costi così e il prodotto finale che a quella la cosa importante no non magari soffre perché c'ha troppa roba vincenzoni stesso che sarebbe il lo sceneggiatore di uno degli sceneggiatore di leone loro stavano di fro fuori dal dal cinema e diceva la gente usciva sazia perché si mangiava tanto nel film di leone a volte però esagera io infatti quello che dico è che il primo film il primo film per un po' di dollari essendo asciutto essendo una sorta anche quella di crowdfunding se vogliamo no essendo una sorta di vittima degli eventi quella lì fatta con pochi soldi e con una sceneggiatura all'epoca si diceva rubata in teoria adesso una cosa non sarebbe possibile ma questo però non è una nota di demerito perché l'artista comunque ruba e se riassembla in modo corretto c'è tutto il mio appoggio sinceramente all'epoca rubata però in teoria non era non verrebbe considerata rubata no è la curosa ha met piombe sangue kurosawa copia da shell hammett ah ok questo è il discorgetto che dice che de palma l'ha copiato e poi argento ha copiato questo è come funziona l'arte il film che avuto più successo che il primo perché quello là che avete tutti voi cioè ha dato l'impronta al genere ha fatto questo forse quello è il più importante anche il più bello tarantino per esempio lo dice poi va in chiusura e giovanni così passiamo tranquillo no no finisci finisci tarantino tarantino stai parlando del film dice per esempio no parlando anche di c'era una volta il west che non è il suo preferito perché troppo consapevole di essere un capolavoro troppo di essere poi rispondi noi preferisce lui preferisce il buono e brutto e cattivo perché appunto è più asciutto no infatti se vedete poi la trama e magari anche i cattivi personaggi sono più simili ai primi film di tarantino volendo ma sta cosa è così è uno simone per madriana adriana tocca giovanni ora santo nocito io vi dico che a me giovanni parello non so al buon alò non esprimerti perché sennò poi gli sposti troppo le opinioni a me ha scosso qualcosa dentro sarà perché ho una cultura cinematografica ma una cultura cinematografica molto più fragile di tanti altri quindi vai giovanni marco cioni ma perché quando qualcuno ti parla di gusti personali in maniera interessante volendo anche con una parola dei gusti versioni si sono tutti i gusti personali perché il fatto che non mi dice che c'era una volta il west è eccessivamente pomposo eccessivamente lungo ed eccessivamente carico questa una sua idea cioè in generale il mondo non ha reggito è una sua idea è una sua idea è lui che lo trova lungo lui che lo trova pomposo è lui che lo trova carico ci sono persone che anche in chat hanno scritto puoi dire che è lungo puoi dire che è pomposo puoi dire quello che cazzo ti pare però a me è piaciuto da impazzire quindi quelli sono gusti personali c'è un problema con un personaggio tipo sergio leone è imprescindibile dai suoi film e sergio leone sergio leone perché i suoi film sono dei capolavori non è che sergio leone è diventato quello che è il mondo del cinema lo ricorda per quello che è perché era il figlio della regina elisabetta sergio leone era figlio comunque di un regista che ha cominciato a fare delle cose da piccolo in un periodo un po particolare fra l'altro per esempio la scena delle bighe in ben ur il famoso ben urno e remake di merda ma il ben ur quello vecchio di charton eston la scena delle bighe la lotta delle bighe la guerra quello che dovrebbe essere il circo nella corsa delle bighe quella è diretta da quella è diretta da sergio leone cioè i suoi film sono sergio leone e lui e sergio leone perché i suoi film sono dei capolavori cioè non puoi dividere una cosa dall'altra poi a livello di gusti personali uno può dire qualunque cosa tenete è una merda per quanto mi riguarda e quel film l'unico motivo per cui ha incassato due lire paragonato per quanto mi riguarda una merda l'unico motivo per cui quel film è stato già tanto chiacchierato è perché di un grande regista che è diventato un grande regista perché faceva dei capolavori poi si è rincoglionito quindi a una filmografia molto più lunga di quella di sergio leone che ha solo 7 film perché sui suoi film lavorava in un certo modo e teneva a lavorarci in un certo modo e quindi sono soltanto 7 ma questo non è assolutamente un un demerito il fatto che a gianni ne piacciono solo due invece che tutti e sette ma sono sempre gusti personali dei gianni come addirittura mi viene a dire per esempio che i film di leone soprattutto sono importanti per via della musica purtroppo la musica nel cinema e non nei film di leone è imprescindibile dal progetto dal progetto filmico assolutamente imprescindibile addirittura come ha detto giovanni i film che la musica che veniva composta prima da diversi incontri che leone faceva con il grande morricone ispiravano sergio leone a livello filmico a livello a livello visivo e lui magari anzi sicuramente senza magari creava qualcosa inquadrava le cose decideva come procedere anche in base alla musica il cinema ragazzi è la settima arte perché le unisce tutte la musica è arte esattamente come le immagini esattamente come la fotografia sono le due cose imprescindibili in questo caso che poi la musica sia molto conosciuta perché stiamo parlando di un cazzo di morricone non è che stiamo parlando del primo pischiello che passa passa da una parte ma quello senza dubbio ma la forza di quei film è anche il fatto che leone è riuscito a far sposare le due cose senza contare che nei suoi film e poi chiudo senza contare che grazie a chiudere no grazie a leone come regista ma anche ai film di sergio leone anzi soprattutto ai film di sergio leone abbiamo avuto abbiamo il cinema e il mondo ha il mito di clint eastwood quel cazzo di personaggio l'ha inventato leone l'ha inventato per il suo mondo clint eastwood prima di lavorare nei film di sergio leone era un attore di serie b che faceva tv lui l'ha portato in italia lo ha stracambiato completamente ed è diventato clint eastwood ragazzi chiunque parla di cinema il primo personaggio che ti viene in mente uno dei primi personaggi che ti vengono in mente e clint eastwood e quel personaggio è figlio dei film di leone esattamente come figlio di leone ho un po di brividi quindi bravo giovanni però grazie però faccio anche una provocazione non so se poi buona lo approverà parlando di musica e film effettivamente ci sono dei film che tolta che sussistono solo grazie alla musica il primo esempio mi viene in mente è è un po una paraculato da dire però voi mi arrasso di secondo me è un film che tolte le musiche the queen è una cacata marco da 6 no però per cui esistono dei casi in cui è la musica che ti trascini al film quindi quello che loro stanno dicendo non è completamente fuori di testa poi ovvio lì si parla di musiche preesistenti che hanno fatto la storia quindi per quello dicevo che un po paracula come esempio ma il primo è venuto in mente pensando a quel film se se non ci fosse stata quelle musiche probabilmente sarebbe la gente gli abbia fatto molto più schifo di quanto gli ha fatto prego già sarebbe esistito ma ma voglio parlare di una cosa che ha detto caro giovanni a che bello vederti in questa veste caro giovanni perché è una cosa che io ti ho ripetuto fino allo sfinimento e oggi finalmente l'hai detta questa cosa andiamo prima quando giovanni parlava della trilogia tu hai detto è ma non puoi staccare i film concepiti per una trilogia e giudicarli no volar mente peccato che tu lo fai sempre ma io non ho detto questo i giorni per parlare già no no però aspetta fai ogni volta mi lo faccio parlare ogni volta quando ogni volta che parliamo del della del visage in particolar modo della marvel caro francesco lui mi critica la cosa dicendo ma io possibile possibile che io per verso ma è diverso che c'è ma infatti questo è il medico di montalzano c'è scusate e interrompo gianni solo per un motivo perché ha rimodulato una cosa che ho detto io mi stanno e qui siamo in casa non ho detto mi stanno vanno e tu hai fatto il tuo giro va bene lasciare stare lascia di stare signori io non guarda mi richiamo all'ordine non vorrei delle frizioni personali antecedenti all'opinione pericolosa portata dal signor giovanni manarello possano inficiare la strutturale discussione per cortesia è diverso di loro ma guarda i giovani gianni gianni va bene allora io voglio parlare invece un po più dell'aspetto dei proprio dei personaggi perché giovanni ha detto una cosa molto giusta effettivamente un po il mito di clienti su per quanto prima non è che non è vero che era una persona sconosciuta e per la versione lui aveva fatto ragazzi fatelo parlare a vedere la filmografia di clinty sud già c'erano i western nella sua filmografia comunque detto ciò quello che voglio dire io e parlare un po della dei personaggi fate caso a questa cosa guardate tutti questi film di leone a parte questi ultimi due che vi ho detto io quindi c'è una volta il west c'è una volta in america e prendete i personaggi notate quanto i personaggi siano lo specchio uno dell'altro in tutti i suoi film ovvero in tutti i suoi film noi assistiamo a personaggi grigi il problema di utilizzare personaggi grigi però quale è che un personaggio non può nascere in maniera grigia o è grigio attraverso le azioni che fa o eppure diventa diciamo viene corrotto da da una società oppure da qualche cosa dal fascino del male e quindi diventa un personaggio grigio esempio lampante joker se prendiamo il film di joker noi assistiamo ad un personale alla crescita all'evoluzione di un personaggio grigio che nasce come un personaggio che effettivamente buono che non caga il cazzo a nessuno ma poi prende una deriva diversa i personaggi per me di di tutti i film di leone di base tranne appunto c'è una volta il west c'è una volta in america hanno questo grandissimo difetto cioè sono tutti i personaggi che vogliono essere grigi ma che risultano essere piatti risultano essere copie di se stessi se prendete veramente qualsiasi film che possa essere un personaggio come tuco il biondo per citare il buono il brutto e cattivo oppure ramon per citare per un pugno di dollari fino ad arrivare al monco di per qualche dollare in più se vedete questi personaggi ragazzi sono tutti uno specchio di loro stessi e questo qual è qual è qual è provoca un problema cioè il fatto che effettivamente ogni film sembra rimodulare e riformulare qualche cosa che già preesisteva io capisco la il concetto che vuole esprimere attraverso questi ideali trilogia sergio leone per l'amor di dio lui vuole rimodulare il western vuole parlare in una maniera innovativa e vuole per certi versi anche criticare le scelte del western che venivano fatte in passati dagli altri cineasti ma il problema è che lo fa in maniera troppo pomposa troppo piatta e con personaggi che purtroppo visti oggi e io vi dico questo se se ve li vedete adesso ragazzi i film di leone io non dico che non sono fatti bene ripeto questa è una cosa che dovete stampare tutti sulla testa e non sto dicendo che sono brutti film sto dicendo che sono sopravvalutati il che diverso significa che se lo usate adesso se lo guardate adesso il film di leone la trilogia adesso parliamo della trilogia del dollaro vi risulteranno tutti i personaggi stereotipati e vi risulterà noioso ho finito ma allora i personaggi grigi e che cosa significa personaggi a me che cosa significa i personaggi grigi per non è che per forza c'è uno un personaggio tipo ti è ti viene raccontato e poi attraverso lo sviluppo della storia ti raccontano le origini di quel personaggio che vuol di personaggio grigi ma come non c'è e dimmi l'origine è un origine di un personaggio di leone ma tu lo capi non è che ti devo raccontare un artefatto l'era capisci la motivazione del personaggio attraverso la storia che significa non è che lui te butta la come l'ha raccontato a te sembra che sono la serie dei personaggi tristi che stanno lì un po' depressi e che si sparano ma non è questo il punto poi se non c'è un vero e proprio antefatto che lui non ti dice allora lui è così perché è successo questo non vuol dire che non ti racconti comunque le motivazioni o il perché lui sia come è come ti viene raccontato e poi questa cosa è proprio quella cosa che ha creato e caratterizzato il genere all'epoca cioè invece di avere il solito eroe bello e pulito e figo e tipico del cinema americano ha messo in piedi invece questi personaggi più brutti e cattivi se voi mi passate il termine quindi questo è proprio la c'è se è andato proprio non lo sono non l'ho capita sta cosa dei personaggi sinceramente facendo un passo indietro leggevo in chat che qualcuno commentava si è vero la questione della musica più famosa ma anche la questione quella dicevano la questione la musica la musica è molto più famosa oggi se chiedete in giro e sono molto più famose le musiche dei film ma per dirvi nel fine a fine anni 90 i miei genitori a un carnevale mi fecero cal travestire dal biondo ma non c'entra niente la musica cioè io mentre ho travestito proprio ero lui con le sto mi madre ha preso un play da tagliato un play ma messo cosa sento di una propria fotografica e sai che purtroppo c'è posto vrei cercare l'opinione se l'avessi preparare lo so dovrei dovrei cercarla purtroppo guarda mi è venuto in malaporti è venuto in mente adesso se ci avessi pensato ieri la remare l'avrei anche trovata e ma però alla sarà onesti fino in fondo perché è vero loro mi hanno travestito ero vestito da da quello da clint is food che farò non lo sapevano no ma mi io avevo il secondo mio padre che era un genio io avevo un mini registratore che secondo lui quando poi camminavo nella festa dovevo fare play e lui ma aveva registrato ammazza e io dovevo andare in giro a fare questa cosa un cosplay praticamente un cosplay antelittera vabbè no per dire che comunque nell'immaginario collettivo cioè ritornando per un pugno di dollari per un pugno di dollari non era niente e solo e con il passaparola ha sfondato i cinema di tutto il mondo non era nulla è la gente che l'ha andato a vedere e non solo la gente poi anche la critica ha detto ragazzi questo film è una roba quindi cioè adesso questo revisionismo storico sui film di leone sinceramente non lo sto capendo non lo so non lo capisco ecco questo è un po il mio punto allora ragazzi siamo giunti al momento delle arringhe finali che significa giovanni panarello e chi dell'attacco farà la ringa finale adriano no giovanni quindi i due giovanni qui si scontreranno in una ringa finale avrete ognuno metà del tempo del sondaggio quindi prima di far partire il sondaggio signora lo ha qualcosa su cui vuole cerco non metreremo noi prenderemo il tempo delle linee finali vi chiedo di condensare nella ringa finale i punti centrali della delle discussioni che abbiamo con interesse e ascoltato quindi riassumiamo questo è il concetto diamo tiriamo fuori l'essenza siamo tutte le cose che siamo che sono state dette sia per quanto riguarda il fronte dell'attacco che per quanto riguarda il fronte della difesa quindi sia per quanto riguarda il panarello sia per quanto riguarda il santo non uscita in questo caso e le condensiamo in tre minuti pro capite pro capite posso leggere prima una cosa che mi ha fatto ridere scusate se vogliamo ridurre tutto senza musica l'intro di 2001 e tre scimmie un osso a matti scusate mi ha fatto ridere do anche il credito a dj allu che appena scritto sergio beone mi ha fatto peraltro in quel caso il kubrick nemmeno aveva collaborato con con l'autore delle musiche esatti la musica classica no che era era un pezzo di musica che sia adesso non ricordo come si chiama raule house 2s finale ok allora prego via al signor panarello tre minuti allora il discorso della trilogia la trilogia è una cosa fatta dopo c'è in senso creata dopo non c'è nessun nessuna voglia di fare una trilogia tanto vero che veniva dai peplum e poi si è buttato sul western il secondo film viene fatto perché lui mi pare rinuncia anzi ha litigato con la jolly film che è una casa di produzione dell'epoca e siccome lui era arrogante di base gli diceva io non faccio nessun nessuno ve lo faccio si 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 parla dell'ho fermato poi non me lo interrompete perché no mi si perde per cortesia l'arrogano ha usato ce l'ho l'aria usato giustamente prego prego quando quando un personaggio diciamo una persona per colpa del narcisismo diciamo può andare a inficiare troppo la riuscita di un di un prodotto e quindi anche anche quella la gioca l'unico capolavoro di leone secondo me c'era una volta in america perché è l'unico in cui veramente i personaggi dall'inizio alla fine tu riesce a immedesimarti riesce proprio a commuoverti è una cosa eccezionale l'unico problema è la durata però la durata in questi tempi dove uno vede netflix 10 ore non è assolutamente un problema quindi vi invito a vederlo i film prima io vi posso consigliare di vedere delle sequenze perché sono interessanti tutto il film se lo volete studiare lo vedete c'era una volta il west che diciamo che viene visto come il capolavoro vero del western è troppo pomposo nel senso magari una personale chiaramente sono uno spettatore quindi quindi faccio la l'opinione questa qui chiaramente è molto lungo non bisogna confondere la lentezza che figa del west perché fa parte del west con il fatto della ridondanza di alcune scene il fatto che alcune cose sono troppo dilatate la prima la scena iniziale c'era una volta al west che è lunga e bellissima i suoni della natura lui l'allevati apposta morigone era d'accordissimo con lui bellissimo alcune scene in mezzo voi vi ricordate il personaggio del treno che fine fa io no sinceramente perché si perde in questo in questa pozzanghera di di scene così ha soprattutto il extremely close up non è un'invenzione sua detta da tonino valeri aiuto regista poi regista di mio nome nessuno il mio nome nessuno ma era un'intuizione dovuta al fatto che le pellicole costavano tanto e che si registrava due buchi invece che a quattro quindi si risparmia la pellicola per i produttori e per non distruggere il dettaglio venivano eliminati le cose che non servivano quindi si tagliava dal cappello al mento e questa invenzione me lo sono segnato per il mi scordo sempre di massimo dalla mano jack dal masso questo qua non c'entra niente con l'opinione però è un jolly che può servire a bella si aspetta che lo rompo e prego francesco faccia partire il timer l'estremi cosa non è un'invenzione sua ma sua è l'idea di passare da un totalone al close up fatto in quel modo che enfatizzavano la scena quindi un'inquadratura non se l'ha inventata leone ma il modo di raccontarla se l'ha inventato lui quindi andiamo avanti il discorso è sempre quello purtroppo stasera si è parlato sia gianni che giovanni hanno dato stranamente io non me l'aspettavo tanto hanno dato tanto credito a sergio leone di questo un capolavoro quello è bellissimo questa c'è un lavoro grazie questo è magnifico questo è fatto stupendo però poi a gusti personali c'è qualcosa che non vi è piaciuto e quindi adesso un grande del cinema come sergio leone e come i film di sergio leone è sopravvalutato la cosa è la trilogia lui stesso parla di trilogia del dollaro per quello che sono per quel dolore un po in brutto e cattivo e per un pochino i dollari prima e poi parla della trilogia della favola per gli altri tre film che si conclude con questo film che lui ha scostato tanta fatica che era c'era una volta in america grandissimo capolavoro che nonostante essere lunghissimo lui l'ha voluto lunghissimo andando contro a quello che era il mercato in quel periodo quindi l'uomo che secondo qualcuno invece inseguiva il mercato andava contro il mercato cioè proponeva un film di tre ore e quaranta inizialmente che era addirittura dieci minuti più o meno più lungo di quello che era stato fino allora il film più lungo nella storia che era via col vento c'era una volta in america era molto più lungo lui si lamentò pure di tutto una serie di cose perché a quanto pare gli americani avevano la possibilità di tagliare quel film e di farne quello che cazzo volevano lui ha detto se questa cosa viene modificata troppo rispetto a quello che io ho pensato rispetto a quello che abbiamo realizzato se viene modificata in maniera eccessiva io disconosco il film non gli do la paternità perché quello è infatti ci sono alcune scene del film alcune versioni del film che sono mozzate di tutta la parte iniziale cioè dove ci sono i bambini senza tutta quella parte lì tu non puoi arrivare a un certo punto con una determinata diciamo enfasi o emozione a quello che è tutta la parte dove lo sono più adulti tutta la parte finale quindi la lunghezza del film è la sua grande e la sua grande bellezza da diversi punti di vista purtroppo il problema è solo uno i gusti personali possono essere diversi a gente può piacere o non piacere qualcosa però non si può assolutamente nessun modo io forse sono vecchio sono cioè vedere una cosa e non rimanerne stasiati non è una parola di circostanza è così io ho visto i film di leone a età adulta quando ho cominciato a studiare cinema avevo 26 27 anni e li ho amati tutti in una maniera folle perché quello che riusciva a fare leone con le immagini perché lui è un artista era un regista di immagini non è riuscito a farlo nessuno e non riuscirà mai a farlo nessuno i personaggi venivano trattati in determinati modi molte volte perché era quello che serviva alla sua storia le sue immagini leone era questo e tanto di più grazie per il re god giovanni dopo no dopo adesso devo lasciare vogliamo un po di no esatto no voglio fare questo prima ringrazia un po di abbonati poi leggiamo il sondaggio come è andato poi io dico la mia e lascio in mano al giudice supremo alò il compito finale di esperienze allora ringraziamo intanto qualche abbonato ringraziamo dall'inizio del live si è abbonati in tanti ringraziamo maimo 91 che è benvenuto si è abbonato per la prima volta marco mg 97 anche si è abbonato per la prima volta pirro pirro che è il diciassettesimo mese di fila dagli e tutta dark underscore uno per il sesto mese che dice sopravvalutare sopravvalutato ci può stare fumba ride che a livello 1 per l'undicesimo mese di fila siamo quasi all'anno giulicchi 17 mesi striker 88 5 mesi 79 underscore fl benvenuto perché la prima volta a tavola con nutrizionista ci ha fatto un ride ce lo siamo persi del mese prima l'avevo visto ma r quadro si abbona per il senso mese dice opinioni pericolose con il cromero di alo i crossover che non ci meritiamo ma di cui avevamo bisogno quindi la chat si è espressa allora film di sergio leone sono sopravvalutati si e no abbiamo poche persone hanno votato 157 pochissime però c'è un po adesso lasciamo adriamo santucci anche sono il giudice decide se plebiscito oppure no abbiamo 68 68 32 per cento non lo è per un 2 per cento siamo agente il no ha vinto il no con 107 e il sì il 50 persone e più del doppio ha detto di no allora per correttezza la posta è di la stagione correttezza sono tavola del del sogno forse si è sbagliato si chiama la fiaba della fiaba il sogno l'hai sentito te io ho detto della fiaba della fiaba e non si chiama la tecnologia del tempo va bene leone l'ha dichiarata così comunque leone non è il punto chi se ne frega chi se ne frega allora andiamo al dunque io oggi voglio dire che ovviamente arrivava a questa opinione con una mia come tutti gli esseri umani con un mio bagaglio mio padre grande fan dei western mi ha istruito a forza a vedere i film di leone forse solo quelli più classici quindi di oggetto e dollaro c'era una volta nel west e poi l'ultimo è visti tutti zio manca giù la testa ok perché non so quanti non sapevo quanti erano segnali e quindi arrivavo qui pensando che questa cosa diceva giovanni era palese 20 una cosa che non stava nel cielo né in terra ma siccome noi qui dobbiamo giudicare dalle argomentazioni portate e attenzione io voglio che sia una cosa fondamentale e importante da tenere a mente per questo format non si giudica in base a quello che si pensa prima chat si giudica in base a quello che viene detto secondo me giovanni e adriano ce l'accusa non posso offerto il fatto di dover sottolineare l'ovvio nel senso che giovanni panarello a parte che si è visto che una conoscenza della filmografia di leone sopraelevata rispetto a tutti gli altri e per questo secondo me è riuscito a portare una serie di argomentazioni personalmente hanno messo non sono questi persone perché ha tirato fuori una serie di cose oggettive legate a l'uso della figura femminile all'uso della sceneggiatura come approcciava il montaggio delle cose che a me comunque hanno fatto traballare e secondo me io voglio premiare il fatto che mi hanno fatto traballare su una roba che per me era solida nella mia anima e quindi io do il voto alla difesa di qua anche perché così lascia dal o la patata bollente decide però sono serio è per questo c'è giovanni panarello a me ma mi ha preso in due modi e gianni e non c'è molto molto amo con la mascherina e mi ha preso invece gianni anche con la questione personaggi grigi perché effettivamente andando a criticare qualcosa secondo me quella una cosa vera mai signora lo prego allora sopravvalutato peraltro leone viene molto molto attaccato in italia a livello critico quando escono i suoi film perché è un decennio molto importante per noi quello facciamo il cinema più bello del mondo e vinciamo tanti oscar siamo molto forti molto commerciali molto strutturati e in italia non vengono affatto amati i film di sergio leone quello che succede però è che arriva il mondo diceva l'ottimo santucci e il mondo francamente non non doveva arrivare non era previsto che arrivasse diciamo e questo è mastodontico e questo è gigantesco a livello cinematografico una cinematografia che non si occupa di western che non ha mai realizzato western si trova come diceva il santonocito a inventare un nuovo filone che viene ripreso anche dall all'estero cosa succede poi succede che passano gli anni e sicuramente clint eastwood anche quella questa è stata un'ottima presa di posizione del santonocito diventa un'icona del cinema e anche impara tanto come anche raccontato e quindi insieme infatti il western più bello di clint eastwood da regista alla dedica a sergio e don i due grandi registi don sigle e sergio leone con cui appunto aveva lavorato e da cui si era beverato ma io vorrei aggiungere george miller perché è la cosa che più mi affascina sempre come mad max anche che è un punto di riferimento enorme per quanto riguarda ancora oggi la distopia dal punto di vista grafico sia per la missione stessa di george miller ispirato al cinema di sergio leone e con mel gibson che viene con il personaggio di mel gibson che viene ricalcato su quello dell'eroe senza nome di clint eastwood e i primi piani morricone è inscindibile da leone non può mi non sono d'accordo io ogni volta che sento morricone vedo le immagini sergio leone e e quindi è sul termine sopravvalutato che da bravo giudice mi sono concentrato non penso che sia stato ormai che i suoi film siano stati sopravvalutati penso che i suoi film abbiano realmente cambiato la storia del cinema e e abbiano realmente toccato dei vertici dell'espressione del prodotto audiovisivo raramente toccati dal 1895 oggi nella storia del cinema quindi non accetto il termine diciamo l'opinione pericolosa del panarello espressa con devo dire eleganza infatti c'è un po di sospetto che ci sia un po di sofismo perché non lo so il panarello mi sembra persona di cultura e non lo so ma questa è una mia valutazione quasi anche morale che lascia il tempo che trova da giudice nel senso che non so quanto sia realmente convinto egli stesso di ciò che ha portato psicanalisi troppe è sottile è sottile però quello che ho detto insomma poi aiuta anche a ragionare analisi sulla persona panarello troppe analisi sulla persona io lo capisco che la persona porta al risultato però i film di sergio leone tuttora possono essere visti muti da bambini e tuttora segnano molto molto le persone che che li vedono quindi e sono incredibilmente moderni perché sono fuori dal tempo quello è la stessa cosa che lei ha criticato che va bene per il dramma storico va bene per il dramma psicologico ma insomma all'interno di questi capolavori grafici leone era interessata ad omero non certo alla guerra di secessione infatti e qui concludo sergio leone insegna molto anche a george lucas perché sergio leone è il primo grande autore sincretico anche anche akira kurosawa che furbo era e colto era aveva letto piombe sangue d'ashel hammett e aveva fatto io jimbo su questo grande romanzo arboid insegnando il sincretismo cioè portando fuori dal genere gangster e andando tra i samurai no non è bello leone e anche lui sa che ovviamente una struttura è una struttura te la puoi portare in giro la puoi vestire in modo diverso allora voglio dire che un altro che amava molto kurosawa e anche sergio leone ovviamente era george lucas io io metto 1964 per un pugno di dollari guerre stellari 1977 sono veramente momenti molto importanti della strada del cinema che generano tantissimo tantissimo caro panarello anche anche tanto anime giapponese e manga vengono molto da sergio leone e poi appunto c'è questa splendida affermazione di george miller che corretta giusta su ben max un altro grande testo del di un genere distopico che tuttora va benissimo sta arrivando la distopia anche nel nostro paese finalmente perché ci sarà una col nostro cortometraggio anche e di se si bene più o meno si voi siete una generazione già distopica perché siete una generazione dove che non ha futuro pensa quelli ancora che saranno ancora più giovani domani e quindi la distopia non mi sembra affatto strano che torni la distopia anzi dopo tante generazioni nel momento hanno raccontato i loro drammi finalmente una generazione disperata che racconta la distopia no poi divertire tantissimo la mancanza di tutto no soprattutto di prospettiva quindi tutto questo per dire e scusate per la lunghezza che io non sono affatto d'accordo con il panarello lo diciamo ho apprezzato anche del gianni la l'esposizione ma non non mi convince i film di sergio leone grazie al cielo sono stati valutati giustamente per quello che sono stati per me nella storia del cielo intanto grazie mille francesco perché non sei mai lungo è sempre un piacere ascoltarti giovanni secondo me tu sei stato molto 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 bravo che risico quando gianni è venuto da me e mi ha detto c'è questa opinione su sergio io ho detto e tu sei sicuro tu secondo me hai assunto delle droghe prima di venire a dirmi questa cosa ti prego basta una passare dei giorni ma è venuta di vacanza ho detto no mi dico perché perché ti dico perché perché io a quel punto adriano santucci intervenuti ha detto se dobbiamo farla dobbiamo prepararci tutti e quindi tutta quanta la sling dogs visto che poi in realtà no io non mi sono preparato perché tu sei vecchio e già io mi ricordavo e quindi di base è stato quello il punto quindi grazie mille giovanni perché c'è anche un po di scoprire leone e se non avete visto ragazzi in chat leone come hanno detto loro andatelo a vedere perché comunque ha fatto scuola poi magari io sono d'accordo che forse qualche film ad oggi c'è un regista italiano che ha fatto una cosa come sergio leone cioè era in chat nella maratona di bettaste in twitch oggi nella maratona di bettaste perché l'unico altro film italiano dopo il 1964 io posso minimamente paragonare alla grandezza la difficoltà perché giovanni caro panarello non c'avevano una lira aveva una ragione santucci e santo non ci conosciamo una lira al tempo il deserto dell'almeria era il deserto dell'almeria ma quelli o quelli sono venuti meglio infatti quello che dico io quello credo ma già questo sai è una scintilla però voglio dire l'unico altro prodotto audiovisivo italiano che si avvicina minimamente alla sorpresa e alla e alla capacità di fare nostro un genere che di altri è stato solo solamente lo chiamavano gigrobot e non era 15 e quindi ogni volta che stavo su un palco con mainetti dicevo c'è 1964 e 2015 alla strada del nostro francesco mainetti che come vetti che se che se piegava piangeva io ma io te lo dico da storico è ma perché perché però perché non fanno i cinefumetti e noi non li facevamo adesso siamo arrivati noi l'abbiamo fatto infatti come ho detto sempre a quei due psicopatici che mi dicevano essi però il nostro maestro sergio leone che viene citato in gigrobot con la battuta di giù la testa non era il grande fratello era buona domenica che è una battuta di giù la testa di sergio leone e dicevano sì ma allora ecco devi essere uno psicopatico non leoni amo non leoni hanno fino in fondo per non fare saga perché invece il genio fa saga e in un anno e mezzo voglio ricordarvi questo anche l'incredibile velocità che che ho riscoperto di studiandolo proprio litigando con guaglianone e mainetti che non vogliono far saga e non sono leoniani fino in fondo invece e sbagliano in questo perché noi vogliamo ovviamente g2 vogliamo g3 vogliamo la trilogia del gig chiamatela come vedare pensare che quel genio l'ha fatto in un anno e mezzo quei matti in un anno e mezzo che uno non ci crede nel 66 che non sono nemmeno due anni era il 64 un anno e mezzo se andate a vedere la distribuzione fanno per un pugno i dollari per qualche dollari in più e il buon e il brutto è cattivo giovanni grazie mille di aver portato questa opinione è stato veramente figo adesso puoi tornare nel regno delle ombre ragazze del regno delle o prima di salutare giovanni dicendo che lo ringrazio per l'opinione questo è questo è il tipo di opinioni che ci servono che vogliamo di cui vogliamo discutere di e che volete anche voi fra l'altro perché era molto difficile è molto particolare molto bene se volete un'altra idea il miglior film italiano e la vita è bella di benigni però questa mandala 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 ma non esaggia la situazione giovanni perdonaci facciamo tardissimo ci mandala mandala ciao jo grazie mille ciao 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 no raga comunque fighissimo fighissimo ragazzi se anche voi avete opinioni pericolose da mandare visto che adesso stanno uscendo nuovi film al cinema finalmente sono subito alla mandate le opinioni pericolose chioccio a gmail.com verrete ricontattati se valutiamo l'opinione valida interessante dal buon gianni che poi insomma vi chiederà di discuterla un po per capire appunto se ci sono delle argomentazioni chiaro solo che vista sul cazzo quel regista quel particolare film in realtà c'è una grandissima opinioni pericolose che spero che un giorno porterà non la rivelerò qui qual è quale quante ce ne ha anche se ne ha ma come ne abbiamo discusso quella di quel regista che secondo te è mega sopravvalutato ah ok sì 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 volete sapere qual è volete sapere qual è e poi si vado vincola su vilnev esatto ma si è espresso anche sulla mia baghia facebook e io esatto bravo bravo io so anni che lo dico ma non so come la pensare un accordo con te invece non non sei aluani perché guarda che sono fresco di monografia e devo dirti che e devo dirti che sono meravigliosi enemy è suo vero fra enemy è bellissimo c'è anime è lo stesso anno di prisoners e sono due film molto diversi lì tu ti rendi conto anche della sua complessità ma io penso che politecnique sia una cosa incredibile io sono affezionato molto al primo vilnev la donna che canta è meraviglioso ma infatti secondo me lui c'ha avuto poi un tracollo dai rival in poi ma questa è un'altra ma questo sono più d'accordo con te è esatto però guarda adriano che la filmografia è eccellente per me anche maelstrom che è uno dei primi film è veramente molto ecco lo scusato non sembra il binnev di un'ora di un'astronave che ha terra e un'ora di un'astronave che decolla era un po più complesso come registra un po più interessante vogliamo fare entrare a no che facciamo cerare non è aspetta aspetta lo facciamo entrare cioni aspetta facciamo entrare il prossimo che porta l'opinione pericolosa eccolo salva ragazzi mi chiamo marco sono di roma mi piace ci sono sposato da due volte nel giro di un anno senza divorziare capito è assurda sta cosa e niente oggi porterò la mia opinione pericolosa cosa fai nella vita marco scusami io lavoro con un gruppo dei scoppiati si provano a fare attività sul digital attraverso il video ma fa i filmini su internet falliti tra l'altro so che adesso col nostro gruppo stiamo facendo stiamo realizzando un cortometraggio che portano poi live e le varie fasi la produzione bad taste ci ha sposato questo progetto e quindi insomma siamo molto contenti tra l'altro fra poi se vuoi di parti aiuti dico la logland cui siamo partiti giusto per farti capire perché ne abbiamo preso le logline degli utenti e quella che abbiamo scelto era in un mondo post apocalittico derivato dalla carenza di tutti i materiali semi crisi dei semiconduttori che quella che c'è adesso per cui non fanno più le playstation 5 eccetera due ragazzi trovano un game boy con dentro una cartuccia di pokemon rosso che a quel punto era tipo cioè in quel mondo è loro e devono venderla combattendo le gang locali per diventare ricchissimi questa era la logland che siamo partiti ma in realtà poi noi l'abbiamo rivisitata rimaneggiata non dirò come perché il 3 novembre facciamo una live per raccontare a che punto siamo a livello creativo abbiamo tolto delle cose aggiunto altre mauro si sta facendo delle sedute insieme a renzoni tommaso renzoni o sceneggiatore di terapia di gruppo proprio c'è stato un momento in cui era variati a un trattamento finito chiuso adriano ha cominciato a lavorarci alle produzione durante la riunione eravamo io lì io mauro e renzoni mauro dice una cosa a renzoni renzoni fa perfetto dobbiamo ricominciare da capo e io tipo no perché ti prego diceva che il leone faceva anche così forse che sia un buon segno speriamo perché poi la cosa figa è che finita quella sessione che è cominciata con dubbi a riconoscere da capo quello che è uscito fuori non è tanto di simile a quello che avevamo fatto paradossalmente però no anzi è andato a sistemare una prima che secondo tutti mi sa aveva il corto nel terzo atto inizialmente molto più convincente è stato veramente figo assistere a quella roba lì spero che voi in chat possiamo assistere a qualcosa di simile il 3 novembre posso dire la mia opinione vai per la riunione ci dica l'ho già detta su instagram in realtà ma la ripeto spoilerone io sono appena sono fresco fresco di no time to die e quindi credo che sia il momento di parlare di james bond anche perché il suo ultimo no è l'ultimo che si è l'ultimo chissà cosa succederà dopo ma non faccio spoiler secondo me pierce brosnan è il miglior zero zero ecco la pierce ecco la ogni volta che si dice pierce brosnan ma io mi ricordo la puntata dei simpson c'è la sua voce e c'è marge che fa o pierce comunque c'è uno dei dei nomi più difficili da pronunciare di hollywood rosnan pierce brosnan c'è per i reti modiscia la me lì c'è jake la me che è che se non penso che lo pronunciamo correttamente già ma sicuramente ma adesso le somaliere chi le fa ce le facciamo le squadre voglio la squadra fatta da francesco allovi prego così potrò dire un giorno a francesco allovi a me signora la squadra so che adriano santucci è appassionato di 007 e insomma ama ama è sulla mia stessa linea però io sono appassionati 007 hai detto una stronzata però aspetta non reagire molto bene il santucci e alla sua io volendo me la posso accollare in difesa allora facciamo 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 che facciamo posso io se vuoi io posso andare in difesa con ciò con il buon cioni allora ti do il santucci e gianni e giovanni fanno coppia ok è sistemato io quindi parto vado allora vai pronostici pronosti in chat quindi ragazzi votate se secondo voi vinceremo io e adriano con l'opinione pils brosnan è il miglior 007 oppure gianni e giovanni potranno smontarci scusa a proposito di visto che ci abbiamo un minuto di pronostici invece si sa niente sul prossimo c'era tutta no no non dico niente l'unica cosa è che idris l'ultima notizia ufficiale è che idris elba che era uno dei candidati a essere il prossimo bond ha dichiarato col cazzo che lo fa c'è ha detto no c'è l'aria dichiarato messo tanto particolare di cui poi poi se il film alla fine io no time to die ancora purtroppo non l'ho visto non parliamo e io non parliamo ne così siamo tranquilli perché ti piace tanto stato questo filo dello spoiler non ne parliamo in zaut in zaut che cazzo significa già luca hai detto tu hai detto invece di dire inside out è capito io manco me ricordo ste minchiate comunque in chat in questo momento trovate il link per andare all'art station di giovanni panarello il ragazzo che è venuto prima a portare l'opinione che fa l'artista 3d e lo scultore andate regata regalategli la trilogia del dollaro in blu ray costa pure poco posso andare io vado allora io voglio intanto settare il terreno per questo piano la prima cosa che dirò è questa secondo me bisogna parlare delle migliori interpretazioni di tutti i singoli interpreti perché è ovvio che se io vado a parlare di il domani non muore mai che lascia un po il tempo che trova o se vado a parlare di per per più sbosano se vado a parlare di una cascata di diamanti per sean connery che è l'ultimo finché ha fatto in cui era palesemente stanco o se vado a parlare di quanto bravo di daniel craig che soffre dello sciopero dei sceneggiatori è un proprio uno scontro fallato e senza insomma senza senso quindi invito tutti quanti andare a parlare delle migliori interpretazioni perché così abbiamo tutti quanti i contendenti al top della loro forma per quanto mi riguarda la migliore interpretazione di bis brosna bis brosna e golden eye è un film che dà la possibilità a un personaggio che era morto perché era morto e ha fatto esattamente quello che poi è stato fatto con daniel craig ha preso un personaggio che aveva subito una serie di sconvolgimenti era arrivato con timothy dalton penso forse al minimo della sua forma e con quel film con un cast carino una sceneggiatura secondo me incredibile perché riesce a portare a riportare quello che era un personaggio della guerra fredda in un ambiente che c'ha quelle diciamo c'ha quelle atmosfere ma è un po più tecnologico un po più avanzato e soprattutto abbracciato da pierce brosna viene portato al top di quello che era non era mai stato fino a quel momento forse solo con sean connery agli inizi tant'è che è stato successo di critica successo di pubblico e ha sbancato tutto e si è tirato dietro quello che poi è avvenuto fino ad oggi secondo me parlando di james bond è fondamentale definire il personaggio james bond è un personaggio molto particolare perché perché è un personaggio sì che è una spia sì che è un grande con grande sa warfare che è il personaggio classico dei film che se gli sparano addosso in 5.000 non viene mai colpito ma lui ogni volta che spara colpisce subito al cuore o alla testa ma c'è anche un elemento fondamentale che è l'ironia la l'elemento comico l'elemento il tempo comico la sagacia di 007 è qualcosa che lo distingue da tutto il resto è qualcosa che lo distingue da già da un jason born da unità nantes insomma è la differenza sostanziale che è insita nel personaggio questo è fondamentale perché non sta solo nel personaggio ma sta anche nel fatto dei gadget che a volte risultano ridicoli ma che poi sono in parte integrante dell'essere 007 secondo me pierce brosnan è riuscito rispetto a tutti quanti forse anche perché figlio di un tempo preciso a incarnare le due anime di 007 cioè il bello che riesce sempre in tutto quello che fa che se si lancia sott'acqua con un motoscafo aperto si aggiusta la cravatta mentre lo fa perché lui per lui è sciallo e se si lancia da un dirupo con una moto per entrare dentro un aereo lo fa con una faccia tranquilla perché tanto lui lo fa tutti i giorni ma anche la capacità di sparare queste punch line secche dirette con l'umor inglese in faccia ai cattivi mantenendo un sour fair che senza pari secondo me questo non è riuscito a farlo nessun altro perché vi dico perché perché sean connery prima era purtroppo a causa secondo me solo e solamente dei mezzi che avevano a quel tempo per fare questo tipo di film risulta oggi ridicolo per un buon 90 per cento dell'interpretazione perché mi viene in mente la scena subacquea non mi ricordo di quale film di preciso perché ne ha fatti tanti in cui c'è probabilmente questo scontro subacqueo di 30 persone che non si capisce niente lui che si muove con questo gadget sì che si muove con questa specie di razzo propulsivo che è ridicolo e proprio è proprio un purtroppo legato a un tempo che quei film erano fatti in un modo difficile perché ci richiedevano delle necessità a livello produttivo è però zio poi a quel punto l'interpretazione ne soffre perché ovviamente quando si tratta di fare film d'azione oggi sfocia nel ridicolo però se lo vedevi all'epoca era una mina sì sì però io ti sto parlando di tutti i tempi quindi va preso fuori dal tempo secondo me che in particolare quindi è nel presente non si può e se tu giudichi oggi i film di sean connery le scene d'azione sono ridicole sean connery sembra a bus spencer da vermo dalle pizze alle persone che fanno le capriole da sole intorno non si può daniel craig d'altra parte secondo me il grande difetto della quadrilogia di daniel craig tetralogia scusami che si è andato a perdere sempre di più figlio del fatto che hanno voluto fare un'operazione mai fatta che è quella di trasformare di non fare film univoci ma di una trama orizzontale che è comunque una cosa lodevole e fica si perde però appunto il lato ironico daniel craig partendo da casino royale che io ritengo essere forse il miglior film di 007 andando avanti perde quell'ironia diventa sempre più cupo sempre più cattivo sempre più drammatico finendo appunto con no time to die e si perde quell'elemento fondamentale che invece è l'ironia la parte sagace di 007 che viene lasciata molto di più ai muscoli e al dramma questo è il primo i film di craig sono cinque sono cinque perché quanto passi ora eliminato gianni non so posso allora posso alo posso francesco ok allora io voglio voglio ribattere l'opinione di marco dicendo che non esiste un miglior 007 non può esistere la saga di 007 comincia negli anni 60 e finisce per il momento nel 2021 è una saga eccessivamente longeva quanti cazzo sono sono 25 non esiste non può esistere 62 2021 non non può esistere un miglior 007 soprattutto per come è nato il personaggio di 007 da jan fleming che è lo scrittore eccetera abbiamo fatto un come live hanno fatto dove abbiamo parlato di 007 particolarmente 007 è un personaggio molto particolare ed è un personaggio che ogni volta viene cambiato per diversi motivi non viene cambiato solo a livello fisico ma viene cambiato anche a livello strutturale per quello che è proprio il personaggio nella sceneggiatura perché ogni volta il film la storia si adatta al tempo quindi il personaggio viene scelto non solo c'è l'attore viene scelto non solo per il tipo di storia che vogliono raccontare ma anche per i tempi che viviamo quello che era sean connery all'inizio rispecchiava perfettamente quello che era l'ipotetico agente segreto licenza doppio zero possa ammazza tutti e non mi non mi si inchiappetta nessuno perché era quell'uomo arrogante poi fra l'altro sean connery odia 007 ma questo è un altro discorso perché era quell'uomo arrogante la donna in quel mondo hanno finito con l'odiarlo la donna in quel mondo veniva vista palesemente come una donna oggetto era solo un diciamo un trofeo da raggiungere solo un passatempo ci troviamo negli anni 60 ragazzi purtroppo non sto dicendo che giusto sto dicendo che all'epoca negli anni 60 era così dopo di che dopo di che arrivano altri personaggi forse quello che può essere definito il peggior 007 ho preso il nome perché non me lo ricordo quindi ammetto che l'ho letto qui e george la zambi la zambio come cazzo se legge però quello neanche no quello ha fatto uno ne ha fatto uno gli hanno fatto fare uno il film volevano provare a fare quel tipo di film con quel tipo di personaggio hanno fatto fare uno hanno capito che non funzionava e hanno cercato aspetta perché timothy dalton comunque i suoi 2007 li ha fatti per quanto non poteva funzionare non funzionava manco lui benissimo sono d'accordo però per il periodo in cui stavano tutti questi perché poi roger moore subito dopo sean connery perché praticamente passiamo da sean connery a roger moore quel tizio che ci sta in mezzo facciamo finta che non esiste lui pure roger moore ha tenuto botta e non era esattamente lo 007 di sean connery era limato da diversi punti di vista ora secondo me parlare di quello che è l'aspetto tecnico del film è abbastanza inutile anche perché stiamo parlando dagli anni 60 al 2021 c'è l'unica cosa che regge per tutti gli 007 tranne per quelli di pierce brosnam è la presenza umana sempre all'interno dei tutte le scene d'azione che vediamo e la presenza umana non solo la presenza umana le scene vengono girate dal vero la cgi è sempre utilizzata pochissimo tranne negli 007 di pierce brosnam dove sogna no 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 senza menzogna zio perché lui non la sogna e non l'ha fatta quella sciata quella quella roba di surfare quell'onda stava bene ma che c'entra ecco stai fallendo mi finire stiamo parlando la peggiore interpretazione non vuol dire quello che sto dicendo io è che fino a quel momento in tutti gli 007 le scene d'azione sono sempre state girate dal vero non c'era mai o se non per piccole cazzate e non per la scena madre non per la scena madre un effetto speciale pesante che sostituisse o lo sfondo o lo stand di per sé non andare l'unico fammi finire concludi stai parla da un botto l'unica l'unica fila di film che ha utilizzato pesantemente la sigia e sostituito l'azione reale è stata proprio quella di pierce brosnam che non voglio dire e ho chiuso non voglio dire che daniel craig pochissimo e poche cose non voglio dire che sia stato il più brutto perché non lo è concluda brosnam era giusto nel suo tempo craig giusto ognuno degli 007 era giusto nel proprio tempo non ce n'è uno migliorano cristiano vai andiamo ad adesso allora si fino fino a quando fino a prima erano fatti sul serio infatti fino a prima i film di 007 parevano azzar della serie non so se ve la ricordate ma praticamente ci mancava solo che lui ci mancava solo che si infilava della macchina come facevano loro dal finestrino e praticamente ragazzi erano film che cercherano voglio essere buono ci dico ci mancava tanto così da essere ridicoli perché erano ridicoli e quindi pierce brosnam di fatto è stato il primo che ha incarnato nella messa in scena e ha reso credibile un agente segreto ragazzi perché non ci dimentichiamo che 007 peraltro vuol dire avere la licenza di uccidere e non è che una licenza di uccidere poi c'è la uno che fa il cretinetti e fa le battutine e come era il james bond fatto da sean connery roger moore ma è un cazzo di agente segreto che può ammazzare le persone ed è l'unico credibile come agente segreto che poi ha anche quel lato da tomba or the fam insomma tutto quello che gira intorno a 007 l'ha mantenuto appunto pierce brosnam daniel craig ad esempio mi è già subito in velocemente è diventato molto più quasi un supereroe cioè lui è quello che invece è rimasto credibile e tu lo è il primo che fa cose da gente segreto le fa bene mantiene tutto il resto del personaggio mantiene l'ironia mantiene l'essere sagace mantiene l'essere saperci fare con le donne di turno e in più è credibile appunto come 007 in un mondo di spionaggio e di azione quindi prima era troppo ridicolo non poteva essere una roba credibile o a meno che non decidiamo che poi 007 che poi 007 sia quello e allora però allora dopo non ci hanno capito niente se poi deve essere quello che faceva sean connery dopo daniel craig secondo me tende troppo ai bin diesel in xxx ea essere più un supereroe quindi io mi concentro un po sul fisico durol di di pierce brosnan che se la plombe la plombe nel senso che poi voglio sicuramente meglio di tutti gli altri che è quello che è più credibile come 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 spia come 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 uomo che fa la spia perché poi quello è di fatto né in un mondo credibile nello di spionaggio questo è molto interessante prego gianni io vi rivelerò questa cosa ho dovuto guardare gli 007 per quest'opinione avevo tutto quasi tutto gianni ha concluso gianni ha concluso gianni perché dovevo dire sta cosa no 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 e io voglio dirlo perché le ha visto visti con gli occhi disinteressati di uno spettatore che doveva prepararsi sia a difenderlo e sia a poterlo smontare quindi è la prima volta che li ho visti 007 in genere allora avevo visto alcuni di daniel craig mi pare casino royale quantum of solace e basta e poi gli altri non come non li avevo visti li ho visti proprio per questa opinione allora è sì infatti è strano e non è una di quelle talmente io ne ho 26 e ci sta c'è questa non li passano nemmeno neanche in tv li passavano prima lo sai quando li passa stavo pensando questo e altre skype c'è non mi sembra ogni volta che esce fanno il canale è nato proprio nel momento di un certo tipo di crisi ma bello che scusate via prego ok ok allora detto ciò vi voglio parlare di una cosa partiamo dagli effetti speciali per me questa cosa degli effetti speciali non può essere un giudizio che va a incidere sulla interpretazione perché questo perché naturalmente gli effetti speciali sono figli dei loro tempi e come giudicare guerre stellari il primo che ha fatto george lucas e paragonarlo a episodio 9 ok di episodio 9 sono molto più belli però ragazzi che cosa stiamo dicendo cioè sono due cose completamente differenti la cosa che secondo me deve essere carpita in questa opinione è la scrittura di un personaggio adriano ha detto una cosa questo personaggio è un agente segreto guardando i film di peace brosnam ragazzi tutto mi sembra 007 tranne che un agente segreto è uno che fa esplodere tutto a un certo punto va in sella ad una moto con un aereo che sta per cadere da un dirupo tutti gli sparano contro la esplosione da dietro totale e lui che si tuffa tipo a piscina come si dice a pesce per prendere l'aereo che sta decolando che lo prende in tempo lo fa di tagliare ragazzi questo non è doveva scappare in un modo più segreto come manarello dovesse tutto nero lo schermo no 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 vi spiego vi spiego per me perché intercendo a quello quel 007 che mi è piaciuto di più è quello di conneri perché conneri si comporta come un agente segreto ma dove c'è lui quando c'è dalla russia con amore allora vi prendo questo esempio facciamo questo questo gioco di immaginazione dalla russia con amore c'è il personaggio di james bond che va in hotel va in hotel prende la stanza e a un certo punto inizia a controllare se ci siano microfoni che lo stanno spiando si accorge che c'è un microfono che lo stanno spiando adesso che cosa farebbe probabilmente da ecco probabilmente il palazzo da parlare sto bene la linea comica parlare sto povero cristo è tardi ragazzi sulle 11 bis brosnam invece cercherebbe un modo per bros nanda brosna vabbè c'è mai capito certo cercherebbe un modo per disinnescare quell'arnese che cosa fashion conneri chiama al telefono dice è questa stanza non va bene e questa lì non ma chi la deve sette no zio è questa la cosa figa perché casino royal tutti quanti dite che è un capolavoro perché lì l'azione ridotta al minimo sono loro seduti ad un tavolo che giocano a carte e c'è uno dei sguardi del nemico non c'è diamoci a cazzotti e facciamo esplodere le cose io ma che cosa dici nel finale casino royal affonda un palazzo a venezia ho capito nel finale di casino royal non la vedi nel finale la vedi nella parte ma questo non interromperlo questa cosa è che cazzo io voglio chiudere con questa citazione di marco io costantemente guardando i film di quel peace brosnam come si chiama diceva costantemente marco se vabbè ok vabbè comunque non l'ho mai visto così carico come su questo argomento gianni carichissimo svegliato dentro perché ha capito che l'unica l'unica possibilità che ha diventare le famiglie può essere può essere che papà non avrebbe fatto esplodere come diceva il cuscino il letto non è tanto comodo avreste un'altra stanza molto bene bene finito il primo turno vado dritto oppure c'è il signor alocchi a delle direzioni io vi posso riempire un attimo la borraccia poi gianni francesco che ne pensi cioè c'è vuoi sentire qualcosa in particolare intanto io vorrei visto che il gioco è importante non c'è niente di più serio del gioco e siamo d'accordo fossimo tutti comunque pronti a sapere diciamo una visione di tutti i bond dal 62 a oggi per poter accettare la l'opinione pericolosa ok quindi è una piatta no perché il gianni non l'ho visto molto diciamo è no perché se l'è visti tutti se l'è visti tutti e 25 negli ultimi due giorni come ha fatto non credo questa vabbè da tempo che che sia un po che c'è più altra milioni arrivo tutti noi è molto importante perché per dire che brosnan con la n finale possa essere il migliore dobbiamo comunque aver visto tutto conneri aver visto tutto il l'azmbi non è apocrifo silvia non è cattiva questa è morettina messe fira l'azmbi non è apocrifo apocrifo è mai dire mai con conneri se mi non è apocrifo perché prodotto salsman broccoli infatti rientra proprio nella quindi rientra al canone se entra in questo parte del canone il conneri che io amo che è il secondo thunderbolt perché il primo thunderbolt è quello che forse marco città e si deve lasciare sovacquea e il secondo thunderbolt è quello con conneri più ancora non è vecchio con che non è male e quindi che dire basta ho finito quindi noi dobbiamo comunque cercare tutti insieme di come diceva anche giovanni pensare anche alle epoche alla storia del novecento perché bond è un personaggio legato allo stato è uno è un soldato quindi lo spy movie come sapete amici miei si avvicina molto al genere al war movie al fin di guerra d'altro è un fin di guerra questi sono soldati sono ufficiali no lui è il comandante bond addirittura qualifica in marina penso che bond sia dopo un po si mettono di chiamarlo comandante perché non andava più de moda però inizia nell'ultimo lo richiamano comandante bravo bravissima e quindi quindi la storia è molto importante sono d'accordo però comunque vada si può dire è il migliore il peggiore basta ci tenevo solo a fare questa e poi a chi allora fare luna perché domani non avrete il film da festa io fare 9 devo stare all'auditorio ma andiamo spediti in breve abbiamo spediti allora io parto col tanto andare a sbugiardare le cose dette da giovanni santo facito ma prova che il fatto che tu mi hai preso la scena peggiore da mai messa in mano al povero peace brosnan che si è ritrovato che gli hanno detto zio devi surfare un cazzo di tsunami formato da un raggio solare lui stava lì e ti dirò di più è riuscito anche a renderla mello schifo che era quella scena a renderla credibile quindi secondo me quello è solo un pregio fatto sta che non è vero che da l'unico che peace brosnan non è vero che risposta dell'unico 007 che si affida la cgi perché la cgi ha subentrato nel momento in cui era possibile utilizzarla daniel craig giovanni zitto un attimo daniel craig sfrutta un sacco gli stand double e quello non è sì ma daniel craig e la scena dell'aereo che si lanciano di sotto l'hanno fatta davvero bello caro la moto che lui va di sotto quello è un tizio che ha buttato di sotto una kawasaki e alla fine dell'incolatura aperto un paracadute la scena del bungee jumping a inizio di golden eye è stata fatta davvero non è una scena fatta in sì sì è stata fatta davvero il lancio è stato fatto davvero non è in cgi lo so al 100 per cento quindi non è vera questa cosa che hai detto il fatto che i combattimenti siano fatti dal dal vero la parte di combattimenti non andavo a giudicare per quanto riguarda sia sean connery che roger moore di cui poi parlo in merito al fatto che la messa in scena risulta ridicola perché a livello produttivo erano difficili a mettere in scena ma semplicemente perché quello era proprio l'approccio che c'era ai combattimenti all'epoca e non c'era la volontà di provare a renderli un po più seriosi perché ci sono film dell'epoca in cui i combattimenti erano molto più serie fatti in maniera credibile semplicemente quella roba una scelta di fare di sean connery 007 di farlo muovere in quel in un modo quasi quasi da fermo combatteva perché lui doveva essere questa per questa personalità intoccabile che riusciva a superare ogni diciamo e nemico si trova davanti senza quasi soffrire la cosa figa del primo priest brosnan secondo me e del primo di golden eye e che lui si trova a combattere tra l'altro contro penso per la prima volta forse non so se ricordo male contro un altro agente doppio zero che è un suo amico quando gianni mi viene a dire che manca che c'è che c'è perché tutti mi dicono a pierce brosnan manca il lato umano è molto bello sta molto bene nel taccido ma non è non mi manca il lato umano non è vero perché in golden eye è pazzesca la scena in cui lui capisce spoiler scusate che il nemico che sta combattendo non è il solito russo il punto png ma è il suo amico che credeva morto e lì pierce brosnan riesce con una faccia che è sempre imperturbabile fino a quel momento in quel momento ha un'espressione tu proprio capisci che 007 fino a quel momento aveva sempre abbattuta pronta quando si trova davanti lui silenzio ma c'è un momento in cui gli mancano le parole e non è solo sceneggiatura lì ragazzi lì è lui che è riuscito con un sopracciglio e con le interpretazioni della faccia a farti capire che in quel momento e james bond ha perso quello che aveva fino a che lo rendeva la spia imperturbabile ed è una cosa che secondo me ad esempio daniel craig non è mai riuscito a fare e che ne dica gianni che daniel craig così contino poi che che ne dica gianni che daniel craig si muove casinò royale tutta la scena lì delle carte è una stronzata perché c'è una gianni c'è usiamo non sono d'accordo perché una gran parte del film si muove sul finale in cui crolla un palazzo a venezia le non faccio spoiler lui viene torturato con un mazzafrusto nelle parti basse in generale comunque anche lì la parte più bella sicuramente è quella del gioco a carte ma non c'è solo quello finisco dicendo che roger moore per me soffre il fatto che viene dopo sean connery è un personaggio che si si distacca un po da sean connery ma non abbastanza per superare sean connery e quindi secondo me sono più o meno sostituito di personaggio ma sean connery gli sta sopra e quindi lo considero c'è vado a parlare solo di sean connery daniel craig e peace box secondo me sono i tre rappresentanti delle tre epoche vai giovanni allora marco è bravissimo ovviamente a citare quel momento di golden eye dove lui ha il problema dell'amico eccetera cosa che ovviamente in quel tempo e per come il personaggio si era evoluto e mosso a quel punto era uno dei tanti elementi da toccare e così è stato toccato ma per esempio allora vogliamo citare daniel craig per la prima volta propone uno 007 viene proposto uno 007 che si innamora cosa che non si era mai visto le donne come ripeto prima purtroppo negli anni 60 erano sempre visti come donne oggetto negli anni nel fine di anni 90 no inizio degli anni 2000 ovviamente dovendo cambiare il tempo dovendo cambiare tiro perché ogni 007 il personaggio e di conseguenza l'attore e figlio del tempo che sta vivendo e lo 007 e daniel craig si innamora perché dobbiamo avere un 007 diverso lo dobbiamo avere molto più emotivo lo dobbiamo avere più fragile non dobbiamo avere questa diciamo questa roccia che cammina e non fallisce mai come spesso e peace brosnam in realtà dove asco è l'unico momento di scedimento con il suo amico invece daniel craig si innamora lo 007 di che si innamora cede perde molte volte la prima volta quasi la prima volta che vediamo 007 perdere completamente quasi e quasi alla fine e quasi alla fine perché perché si innamora addirittura in casino royale quello che succede che lui rinuncia rinuncia a tutto quello che aveva rinuncia alla sua licenza 00 per l'amore perché ha trovato l'amore cosa che poi alla fine ovviamente si rivela essere una fregatura eccetera 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 però succede questo ogni 007 nel suo tempo ha una particolarità per il tempo craig continua in chat mi hanno appena dato una buona dritta in skyfall addirittura diventa tebole cade completamente andiamo a esaminare un bond non solo attuale ma anche un pochino la sua storia chi era come era arrivato lì che cosa faceva perché è arrivato a quel punto andiamo a trovare pure casa sua ma perché perché quello era il tempo di esaminare l'aspetto del personaggio bond questo militare come diceva francesco prima che nell'arco di 25 film devi vederlo sempre in in modo diverso in sfaccettature diverse e ogni personaggio e concludo e ogni personaggio viene scelto in base alla tematica al modo che si vuole raccontare bond craig è perfetto per questo ultimo bond come non era giusto per quel ma il gioco eccetera 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 erano quello era il tempo di andare a casa di 007 no quello era il tempo che dopo the dark knight quello era il tempo dopo the dark knight nolan ha settato un certo tipo di personaggio la gente c'è andata in fissa e che male ce li hanno fatto set e chi sono leggeo ma perché non diamo anche noi un taglio di questo tipo non è figlio di mission impossible brosdan è figlio di mission impossible e va bene ok il brosan sarà pure il migliorio di prossimo stessa cosa come no nel senso che comune no allora il migliore di possible nel senso che in che senso parte no non ho capito in realtà perché è un film d'azione di che cosa un film di mission un figlio di posso parlare l'azione l'azione c'era anche prima quindi non c'è pierce brosnan hanno reso credibile un personaggio e messo in un mondo credibile di che ne so di guerra fredda e di spionaggio con l'orizzontalità che pavano andare a cretati a craig david a daniel craig vanno a snaturare il personaggio perché gli provano aggiungere tutta una serie di sfumature tutta una delle sfaccettature che poi sì per carità possono anche essere interessanti ma snaturano il personaggio james bond e poi ripeto secondo me il problema di daniel craig che è stato esasperato sempre quello poi a causa di come poi tu sei costretto a fare i film pure per venderli esasperata la parte action è diventato sempre di più esageratamente esagerato quello che la messa in scena e anche quindi poco credibile ecco perché pierce brosnan secondo me resta comunque io mi voglio concentrare su questa cosa dell'essere più credibile nel ruolo torno un attimo indietro su roger moore l'altro problema di roger moore secondo me a parte venire dopo sean connery e che era troppo vecchio quando ha iniziato lui ci aveva quasi 50 anni e il motivo per cui non ha non ha funzionato e anche perché era già troppo vecchio non era invece mi pare che sean conner iniziato che ce ne aveva ancora ampiamente 30 e non neanche l'arrivata a 40 e non è riuscito a fare breccia quindi che su roger moore penso che proprio la storia ci ha detto che non ha poi funzionato tantissimo infatti ne ha fatti otto sì ne ha fatti otto ok però poi non è rimasto nel cuore delle persone non è rimasto nel sette ne ha fatti non è rimasto nel cuore della gente come invece era stato per per sean connery perché come ha detto marco si è distaccato ma non troppo comunque gioca la carta ci notifica una missione in posto è uscito dopo valdena io sto parlando della serie parlando della serie non del fa beh ho capito dai fratelli non mi erano preso io ho concluso ho concluso io sto parlando della serie se poi per loro c'è solo il film è un altro discorso scusate allora sono gianni e sono una spiante sceneggiatore adesso vi farò un discorso sulla sceneggiatura come faccio sempre un po in realtà di un minuto però di un minuto no ma veloce veloce parliamo un attimo dell'origine del personaggio come avete detto nasce da dei romanzi dei romanzi che in realtà che cosa trattavano volevano in parte giocare e forse in parte anche criticare il periodo della guerra fredda ok questa cosa per me è messa molto bene in evidenza da un personaggio come sean connery perché sean connery si percepisce che vive questo che frialò vai vai gianni c'è gianni rapidamente sì sì e sono rapido c'è ancora effettivamente interessante perché è calato nel contesto appunto della guerra fredda alla fine i suoi film fanno parte riguardano quel preambolo che cosa è successo però dopo la fine della guerra fredda e quindi parlando in questo senso con peace brosnan questa volta ho detto bene è che hanno cercato di riadattare per certi versi il concetto della guerra fredda e di riportarlo per certi versi a un personaggio che possa essere legato da quel contesto adesso qual è il problema per me di peace brosnan è che è un personaggio un po piatto un piatto ok nel senso in golden eye effettivamente tutto il motore dell'azione è portato da diverse prese di posizione di questo 007 che per puro caso scopre che in realtà il cattivone dei cattivoni è un suo vecchio amico in realtà il suo collega che lui credeva molto è una cosa che gli accade e per la quale lui è costretto a rispondere il problema è che è un sentimento emotivo secondo il mio avviso e vi dico questo che secondo me è giocato un po troppo sulla cosa facilona diciamo c'è la verità raga ma tutti siamo io l'avo capito dall'inizio che era il cattivo lui si vedeva parte che vabbè l'attore è indiscutibile che faccia quello perché tu non conosci oggi dopo che ha fatto quello che all'epoca non era non aveva fatto ancora boromir non era ancora morto in tutte le volte che non aveva visto che ispirava fiducia che ispirava molte esatto però perché per me craig è interessante per me craig e mi riferisco senza fare spoiler è anche all'ultimo 007 è un personaggio che ha a che fare con la realtà è un personaggio che è è saldo nella realtà molto più che magari pierce brosnan o sean connery che devono veramente fare le missioni impossibili cioè devono riuscire a sgamare i complotti e in questa maniera farlo in modo appunto quasi eclatante con queste anti esplosioni ragazzi io mi sono messo a ridere nel momento in cui c'è il carro armato nel film golden eye ragazzi dai vi prego quella c'era è un po ridicola concludi aspetta ascoltami ascolti crei chiudi il grande prezzo e si chiudo crega il grande pregio secondo me di essere una persona concreta che ha un need e un desire quindi un bisogno e un desiderio per me evidenti lui è la lui alla ricerca dell'amore e quando vede l'amore quando vede la ragazza non è che decide di sfruttarla per il puro piacere di fare sesso ma si innamora e arrivano time do die con un epilogo ragazzi che è molto io ho detto ho fatto spoiler ho detto arriva con un epilogo molto interessante e che sicuramente attualizza il personaggio in maniera sicuramente più bella rispetto a quella che aveva fatto pierce brosnan allora io l'amore il sondaggio in chat un minuto francesco dai facciamo che è un minuto di arringa perché tanto abbiamo detto tutto secondo me minuto a testa un minuto a testa quindi vai marco cioni allora farò lapidario io credo che quello che ha espresso gianni è esattamente il punto pierce brosnan riesce ad essere a riesce a incarnare la serietà e la capacità di essere forte e potente e rigido come daniel craig muscolare e violento anche magari meno coi pugni più con le parole ma riesce anche ad incarnare l'ironia e quella quella necessità che ha il personaggio di essere anche un po sul filo del ridicolo e riesce a prendere questi due elementi che sono lo sean connery da una parte sul ridicolo e la muscolarità un po glaciale daniel craig unirli insieme e tirare fuori quello che secondo me la crasi perfetta e l'equilibrio perfetto che viene espresso in golden eye un personaggio che essi la gente imperturbabile maria anche dei momenti di umanità che lo spiazzano perché lui non è abituato a essere preso di sorpresa e secondo me facendo una media di tutto di tutte le varie migliori interpretazioni a quel personaggio che ad oggi se uno dovesse dire 007 come potrebbe essere come dovrebbe essere per essere incanato alla perfezione risiede nel pierce brosman di golden eye fine ok vado io gianni ti va decisissimo un minuto velocissimo votate in chat votate in chat semplicemente sono dell'idea che non esista un miglior 007 perché necessariamente per come è scritto il personaggio per come esiste il personaggio per come esiste nei film del personaggio ogni bond è giusto nel suo tempo per come viene caratterizzato è la famiglia broccoli adesso barbara broccoli con i vari produttori hanno sempre sapientemente scelto con una piccola caduta dettata anche dal tipo di film hanno sempre sapientemente scelto quello che era il personaggio giusto per quello che del personaggio di bond volevano esaltare per le mille sfaccettature che il personaggio di bond volevano esaltare quindi quando deve essere rude trovano un personaggio rude quando deve essere malinconico eccessivamente romantico trovano quel personaggio che il più gli si addice l'attore che ha il fisico di roll che più gli si addice eccetera 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 i film di bond sono così sono figli del loro tempo ragazzi mi sto risentendo qualcuno ha staccato l'audio sono figli del loro tempo vi muto un attimo così non mi risento sono figli del loro tempo della loro storia della loro situazione quindi ognuno è giusto e non c'è un migliore a chi è partito qualcuno è partita l'audio fuori dalle cuffie non so a chi tra ma ti è partito l'audio a te forse me è partito l'audio io vi sento bene e vi vedo senti in cuffia ci senti in cuffia dal computer francese sono scaricate le tesi sono scaricate le airpods hai delle cuffie eccomi perfetto ok che dice allora il sondaggio io non lo vedo il sondaggio sta per vista ancora non è finito ancora non è finito io aggiungo una cosa tanto ma non è per scostare cose ma sappiate queste anni aneddotica aneddotica bis brosnan dove interpretare 007 prima di timothy dal esattamente purtroppo stava facendo una serie che gli ha impedito di essere gli ha impedito di essere preso perché la famiglia broccoli voleva proprio lui lo voleva talmente tanto che quando dico di alpone è stato accannato da rilanciare il personaggio hanno detto prendiamo comunque lui è affermato da zero per quattro film ma l'ha fatto perché quello era il suo periodo quello è del suo periodo per quello che loro volevano raccontare era giusto pierce brosnan ed era perfetto non sarebbe mai stato credibile per le storie 007 raccontate con daniel craig perché era troppo vecchio perché non andava bene e non solo perché era troppo vecchio per tante altre cose pierce brosnan è proprio quel film anni 90 è l'unico 007 che mi ha dato la sensazione di dire questo qui è proprio un film anni 90 grazie degli anni 90 è giusto che adesso giovanni lo chiama brosnan e santonocito brosnan a me piace scambia signora ok allora il sondaggio sondaggio vado infinito mancano i secondi vince il no col 65 per cento 65 per cento 65 per cento no 35 per cento meglio con hanno votato erone hanno votato in neanche 110 c'è prima mi dici di paraculo beh sono molto legati a craig secondo me come generazione si sono d'accordo mente brosnan ma io andrò ancora più indietro nel tempo perché perché è il mio preferito e sean connery se posso dire aspetta aspetta mostriamo allora intanto è difficile effettivamente cari compagni sui quattro di brosnan dire è il più grande molto difficile e infatti non me la sento di dirlo quindi non me la sento di essere d'accordo col cioni pur amando moltissimo il bond di brosnan perché perché è vero che io vedevo mai dire sì da da piccolo e amando molto bond lo vedevo già come bond quindi io vedevo quella serie maledetta per cui lui aveva fermato un contratto di vent'anni 25 anni e non c'era internet all'epoca ragazzi vi vi ricordo e noi ci incontravamo per parlare di cinema così a casa di qualcuno era un altro mondo veramente effettivamente questo desiderio di avere brosnan come bond ce l'avevamo perché all'epoca era in una forma smagliante quando si vedeva mai dire sì quando si vedeva mai dire sì era incredibile perché era proprio ci aveva scritto sono james bond ma non poteva essere james bond quindi questo e quindi arriva forse un po tardi come dice adriano che burr arriva tardi a a vivi e lascia morire live and let die che il suo primo bond del 73 brosnan arriva bond ancora più vecchio di mur quando arriva a bond arriva appunto nel 95 e ne fa solamente quattro certamente non riesco ad essere d'accordo col cioni anche perché è un momento il geopolitico molto delicato quello lì come dice giustamente gianni erano gli anni 90 è un'espressione molto da millennial gianni non lo è è un generazione z però gli anni 90 noi ce li ricordiamo come una decade molto se gli anni 80 erano edonisti ricchi e inquinanti ma con gioia con gioia come l'inizio del secondo wonder woman degli anni 90 ci ricordiamo lo humor è tarantino no la cultura del del dissacrare quindi la satira gli anni 90 è il rock roll che va contro il glamour e il grunge e tarantino e kevin smith e quindi è il grande cinema india americano che rinasce con la parola niente corpi oleati niente mallet niente pistole lunghe così ma parola molta chiacchiera molta chiacchiera e e però per bond è un'epoca difficilissima quella perché la russia non c'era più la cina non esisteva all'epoca l'india non ne parliamo ed effettivamente ed effettivamente il nemico deve essere sean bin che è uno che è uno zero zero quindi arriva dall'interno craig che io non amo particolarmente come bond però l'ho ristudiato recentemente appartiene molto alla linea nolaniana del privato io ragazzi mi sento di dire che per me per me che ho letto anche young fleming qua vedo molti in commenti conoscevano young fleming io penso che la spia più cattiva la spia più anche sessualmente aggressiva nei confronti del mondo femminile guardate gli occhi sia conneri senza alcun dubbio non lo riesco a trovare ridicolo si è vero che ci sono alcune cose va pure in cielo si dice solo due volte va va in cielo con il razzetto però francamente quella durezza dell'inghilterra che ha vinto la guerra e che e che dice e che decide del mondo ragazzi agli alta insieme alla russia e agli stati uniti questa 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 liason con gli stati uniti con felix later con questa inghilterra che però è più sofisticata e più oscar wilde come dite giustamente più battutara ma con gli aforismi degni del grande irlandese fatto da fatta dallo scozzese che diventa inglese con questo occhio tenebroso e questa cattiveria perché è molto violento è violento anche craig ma all'epoca era più difficile essere conneri a una violenza più meno fisico no come guardava capito c'è solo gli occhi guardate come faccia le donne e invece roger moore il fancazzi roger moore i beach boys il fancazzismo più totale io di roger moore adoravo il fatto che fosse evidente che a volte avrebbe preferito mollare una missione per scopare gli anni settanta inizio anni ottanta era giusto sono d'accordo era giusto arriva completamente questo è vero e quindi voglio dirvi che per me il gra il più grande bond di sempre per come io amo james bond e sean connery all'anima brosnan brosnan si trova in un momento c'è belli ai conneri brosnan c'è i bond di brosnan son belli non ce l'abbiamo fatta ma io perché no perché volevo dire fra se tu devi andare che sei stanco domani c'è cose scopare ormai non lo faccio più però però in cesco non ci credo non ci credo vabbè vai gianni così poi lo salutiamo francesco francesco io non sono io sono ancora millennial perché sono del 95 sono giusto appello appello dal 96 in poi è un tardo millennial sei tardo e basta ringrazio grazie support sopportato e supportato io mi diverto sempre con pazzo poi mi piace tanto venire da voi e sono molto felice della della faccenda del corto perché poi mi piace perché la distopia sta arrivando nel mio paese anna mondo cane anne billi la terra dei figli non è un caso che gli ultimi tre anni si sia fatta distopia ma perché alcuni dei loro hanno commentato ma hanno fatto troppo morire perché parla già una perché noi siamo in un momento distopico perché che non si che non si abbia futuro poi voi siete dei geni l'avete creato e io ammiro molto la vostra capacità imprenditoriale la capacità di fare squadra che è molto bella in un momento molto di individualismo però è vero che già dalla mia generazione sono arrivate le mazzate i millennial non ne parliamo la generazione z è già nata morta è già nata distopica è già nata mad max proprio non avrà non avrà niente ma ci sono gli dicono nemmeno più non avrai il lavoro in italia non ci sarà più lavoro nel mondo non ci sarà la greca con marte no con la andiamo su un bar che c'è manco più la terra allora il game boy trovare il game poi allora lavorare però che cos'è la distopia già rompo il cazzo a zingarelli la distopia e lavorare su un video la distopia è veramente molto vicina al neorealismo italiano è la fame che poi francesco se devo fare una ghiacchiera e mel gibson che si ma mauro lo sa che si contende la ciotola il mangiare del cane col cane alla quando george miller arriva a fare quella scena è che io in anna non ho visto tanto bene sono in pochissimi punti la distopia è la fame è la mancanza di mezzi è il ti ricordi ok quello è quello vuole essere se però mauro deve essere io non c'è deve andare molto sulla pelle leone su farci sentire l'odore della pelle e la fame il lavoro sul corpo e su questa fame mentale perché mel gibson si litiga la ciotola col cane e gli dice non te lo mangi te cerci litiga proprio potrebbe ucciderlo gli vuole bene la george miller con quella scena ha fatto capire perfettamente che cos'è la distopia ricordatevi come prende la benzina la prende come se fossero delle gocce di mettere degli dèi la prende farci sentire questa fatica la fatica di fare ogni cosa il game boy come cazzo faccia andarla a vendere se loro faranno se lui e lo sceneggiatore riusciranno e voi tutti a farci sentire la fatica di ogni singola azione avranno fatto la grande distopia ma sono molto contento è che la serie di cose che ci sono sì 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 di avere la carta è la carta su quello su quello che abbiamo detto sulla lavagnetta di cui abbiamo scritto a primo atto secondo atto e terzo a francesco mi prendo una responsabilità e nei confronti degli altri che loro non sanno io ti invito in studio ti invito in studio a fare due chiacchiere con noi un pomeriggio finita la scenogra finita la sceneggiatura sceneggiatura alla mano ti invito in studio fisicamente con noi a parlare del corto se hai voglia ci vengo a prendere tanto abiti qui vicino casa mia ti vengo a prendere andiamo in studio va bene va bene va bene e io vi saluto e vi ringrazio sono fra felice di essere stato qui con voi e rinnovo il grande ringraziamento e complimenti anche ad andrea bedeschi l'organizzatore della maratona di oggi bad taste è il grande andrea francesco bene anche noi ci proviamo su twitch seguirebbe test del lancio pesato ragazzi ciao fra grazie adesso devo che devo fare non puoi fare danno preoccupare nel caso è colpa mia esce e basta nel caso è colpa mia grazie francesco buonanotte ciao francesco bello giustamente marco dice giovane le consulenze si pagano francesco ci paga una bottiglia di vino vero fra ma io sto ancora in diretta me ne posso andare facciamo tutto noi voglio andare stavolta faccio io ho fatto che saltare non lo faceva per paura buonanotte ciao 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 ciao